Senti, adesso siete arrivati al passaggio livello, aspettate che si alzi la sbarra e buttatevi su un treno, oppure tornate indietro quando potete, no ma lui c'era una volta che accadono, oppure squid game, avete già capito che questa è una puntata diversa, ma non sei già collegato, siamo già connessi, mamma mia, meno male che non ho detto quello che dovevo dire, Cosa dovevi dire? No, no, sei già collegato sul serio? Certo! No, non posso! Ci sono già più di mille persone! Allora, questa è una serata speciale di Let's Spend Tonight Together, quindi mando subito la singla perché altrimenti mi dimentico sicuramente! No, sì! Allora, dovete sapere che oggi è una giornata bellissima, perché questa puntata, non rispondo di quello che accadrà in questa puntata, ma nel senso generale della parola, è vero della parola, è un'edizione speciale di Let's Spend Tonight Together, perché? Perché oggi è il 27 di novembre, Jimmy Hendrix aveva dato appuntamento il 27 di novembre tramite Sonia Benassi, e noi ci siamo tornati qui oggi pomeriggio, e Jimmy Hendrix ci ha dato dei messaggi belli, un messaggio spettacolare che poi vedrete, eccetera. Poi siamo andati a cena al Pit Stop, siamo stati benissimo, il Pit Stop è l'altro locale di Genaro, il Duca di Ventivoglio, siamo qui e non sappiamo che cosa fare, quello è il bello, no? Allora, tanto per cominciare, vorrei dire una roba, vai su Marco Luzzatto, perché? 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 Sì, 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 perché? Allora, vedete come è bello? Perché Marina l'ha truccato! Ecco, io mi devo pentire, è capissimo, ero troppo lucido, mi ha messo un opacizzante, perché ha detto che sennò dopo le telecamere non avrebbero inquadrato bene la mia immagine, quindi... Allora, fortunatamente, fortunatamente questa sera abbiamo telecamere tutte a cavo, perché l'altra volta che Marco Luzzatto è stato qui, c'era Filo, il regista che da qualche parte... Eccolo lì Filo, Filo sta entrando, è testimonio a un certo punto, le telecamere si spegnevano, dicono, bim, 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 perché lui è veramente un alieno, e Filo è entrato dentro dicendo, mi arrendo, io non so più cosa fare, dico, bene Filo? Allora, c'è Marco Luzzatto, Marco Luzzatto questa sera ha il suo aggeggio strano, attraverso il quale lui può vedere se ci sono delle entità diverse da noi in questa stanza, quindi fra un po' lo vedrete fare strani gesti perché lo mettiamo alla prova. Poi dove c'è Luca Donini? Luca Donini ha portato degli strumenti qui, quindi in qualsiasi momento può iniziare a fare degli strumenti, dopodiché abbiamo Marina Tonini che è venuta, anche perché noi lunedì prossimo ci troveremo qui. Sì. Perché? Perché faremo un collettivo in diretta da qua. Faremo un nome in diretta da qua dove ci collegheremo con tutto il mondo, vi faccio già vedere quella che è la locandina, e tu Marina mi dici, allora, chi sono questi? Allora, Marina Tonini sei tu, Bernard Rusch è qui in studio? Sì, veremo io, Luca Donini e Bernard Rusch. Questi tre. Dopodiché c'è Vissarione Calogeridis, sarà collegato dalla Grecia, Redroni sarà qui con voi, Poi dopo abbiamo Don Alessandro Minutella, collegato da non so dove, è importante perché abbiamo il cristianesimo anche. Poi abbiamo, chi è questo Scheiner Kitz? Questo è uno studioso comunque di buddista, amico di Bernard Rusch. Sì, e poi, aspetta, è andato via tutto perché è andato via tutto. Poi dopo di che abbiamo, aspetta, perché, ecco qui, dopo di che abbiamo, sta buona, ecco qui, un altro po'. Questo qui, è tanto bello questo sistema qui, però quando ci sono dei file grossi è un casino. Vabbè, facciamo così, dai. Poi abbiamo, dal Messico. Alessandro Meluzzi, che si collegherà, poi chi abbiamo? Dal Messico c'è René May, chi è René May? È una persona meravigliosa che è stato proposto come Nobel per la pace. Ah, insomma abbiamo dei numeri uno. Eh sì. Nader Butto da Israele. Israele. Anjivodan, che è in Africa. È in Africa, ma dalla Francia. Però dalla Francia. Ecco, questo sarà un nome che noi faremo. L'altra cosa, la bellezza di essere Red, è una vita che non seguo, non mi ha mai risposto a un messaggio. Teredroni, ci parli dal vivo. Luca Pannese, invece di brontolare perché non trasposato un messaggio, mi mandavi il messaggio, magari leggevo il tuo messaggio. Perché, fra l'altro, tutti, tutti chiedono dove sarà l'home. Sarà online e basta. Sì, certo, abbiamo scritto a caratteri cubitali sulla locandina del canale YouTube di Redroni. Esatto. Avrete il link già da venerdì mattina o giovedì sera. Probabilmente giovedì sera. A giovedì sera vi daremo già il link per collegarvi all'home che faremo. Poi dopo, qui abbiamo Sonia Benassi, che stasera ha detto che non fa niente, però c'è i fogli bianchi. Se ti viene qualcosa, ti viene qualcosa da scrivere. Sonia, peraltro, io vi consiglio di leggere questo. Aspetta che lo faccio così che si vede meglio. Eccolo qua. Io Medium le testimonianze. C'è anche Io Medium, però Io Medium le testimonianze perché sono quello che le persone che sono venute da te hanno scritto cosa gli è capitato, cosa gli è successo. Sì, sì. Fra l'altro tu non stai facendo più one to one. No. Però fai degli incontri. Faccio degli incontri e nei fine settimana in giro per l'Italia con Lorenza che è metafonista. Cosa vuol dire metafonista? La metafonia è una modalità di connessione tra noi e l'altra dimensione attraverso le onde radio o una radio al computer che viene poi rivoltata ed escono frasi e voci, a volte dicono anche i nomi, cose insomma molto precise. Ecco, guarda. E di questo se ne occupa Lorenza. Guarda che a proposito di voci dalla radio mi hanno mandato questo che l'hanno mandato anche te, il caso Amicizia. Questa è un fumetto che non so come si fa ad avere che l'ha fatto, come si chiama lei? Alessia. Alessia, sì. Ah, Alessia Gurrado, Lilith Lux. Ed è un fumetto che racconta tutto il caso Amicizia. Lo faccio vedere qua che si vede meglio. Vedete il caso Amicizia, Gaspare De Lama, Prem e tutti quelli che hanno fatto parte del caso Amicizia. Questo è, non so come si fa ad averlo, magari se c'è lei che è incollegata e quindi... Adesso sta facendone stampare 6.000 coppie e poi dopo saranno distribuite. Ok, questa è sempre splendida Sonia. Ok Red, hai dato via al Festival di Crozza. Ma veramente questo qui è Let's Spend Tonight Together. se poi c'è qualcuno che siamo così importanti che ci... Lo voglio, V56, esatto, V56. Buonasera Sonia, potresti rispondere a una domanda? Allora, stasera noi rispondiamo tutte le domande. Fra l'altro io chiedo a Marco se tu vuoi vedere, così vedete. Allora, mi spieghi come funziona il tuo... La macchina fotografica dove ce l'hai? È qui, è qui. Ho cercato di ricavare un po' di spazio perché stanno... Non c'è. E qui, qui c'è la macchina fotografica, qui abbiamo lo strumento Blender che è quello che genera questo tipo di segnale, che è un segnale luminoso incontrollato, detto proprio in parole povere. E quindi questo segnale viene preso da queste, chiamiamole sempre intelligenze, è manipolato e queste attraverso questo sistema riescono a manifestarsi in video. Così detto proprio con parole diciamo semplici, umane. Quindi si sta parlando di correnti quantistiche sempre, quindi si parla sempre di altre dimensioni ed è molto affascinante questo tipo di sperimentazione perché effettivamente ci sta portando dei dati oggettivi. Abbiamo a che fare effettivamente con delle creature che hanno una natura senziente, potremmo parlare del mondo spirituale come delle dimensioni parallele ed è bello poter per appunto fare questo tipo di sperimentazione nel corso magari di contatti medianici o anche con Marina abbiamo sempre questo progetto che dà le parole fatti e si vede come spesso e volentieri il contesto va da regolare la tipologia degli esiti perché con Marina vengono sempre fuori delle creature con occhioni grosse ad esempio e quando invece si parla di contatti medianici abbiamo invece delle immagini di natura prettamente umana. Ecco, quindi alcune volte capitano anche dei riscontri. Diciamo che in questi ultimi cinque anni, come ho detto altre volte, abbiamo visto proprio un incremento di questi mezzi busti, di questi visi che hanno una natura decisamente, potremmo dire, aliena. Ecco, allora io di quello che è successo oggi pomeriggio faccio vedere solo questa immagine che ha catturato, perché il BMP non mi va? Il sistema BMP non mi va. Non va? Eccolo lì, c'è. No, c'è, ma sì, ma non è. Allora devo fare un'esporta. Prova. Un'esporta come JPEG, ok? Sì, o PNG, però va bene. Ecco, no, no, come JPEG. JPEG me lo prende il BMP, no? Ok. Credevo di farvelo vedere subito, invece no. Esporta. Devo fare... Perché queste sono astronavi molto delicate, quindi... Allora, questo è quello che è comparso oggi, una delle figure che sono comparse oggi pomeriggio. Eccola qui. Ok? E voi all'inizio avete detto, ma questo può essere Jimi Hendrix? E abbiamo fatto una sovraimpressione tra Jimi Hendrix e lui. Diciamo che le linee mediane, soprattutto quelle del naso, quelle della bocca, molti contorni sembrano corrispondere. Per quanto concerne gli occhi, bisognerebbe analizzarli magari meglio. Ricordiamoci che queste immagini, comunque sia, arrivano sempre con delle distorsioni o sono... Magari non sono complete del tutto. Poi possiamo notare dei particolari di vestiario sotto. L'ha notata Isonia. Lei notava che c'era un foulard sotto, eh? Quindi, diciamo, le ipotesi rimangono comunque sempre aperte, se ne possono fare anche diverse. Ok, allora, fammi vedere. Ecco qui. Quindi questo è quello che abbiamo fatto oggi. Benissimo. Questa è una delle immagini che sono uscite oggi. e che, mentre parlava Jimi Hendrix con Sonia, è uscite queste immagini che in tanti hanno loro. Io sul momento, però, Sonia ha detto, ma no, allora abbiamo preso una immagine di Hendrix, da un disco di Hendrix, che non mi ricordo più qual'era. Era uno di questi. Vabbè, comunque, un disco di Hendrix. Eccolo qui, questo qui, questo qui. Questo disco, questa foto, e corrispondeva, a quanto pare, a quello. Comunque oggi è stata una giornata davvero, davvero... Allora, siamo giù di volume. Adesso, adesso alziamo il volume. Forse lui era un po' giù di volume. Adesso c'è Filo che si sta occupando di queste cose. Allora, effettivamente una certa simonianza, dice questo. Red si sente basso, ma adesso ci hanno... Stiamo crescendo col volume. Perché è un esperimento. Solitamente, sono solo io che parlo lunedì sere, invece in questo caso, però è interessante perché stiamo facendo anche le prove per l'OM che faremo lunedì prossimo. Ok? Allora, affascinante, eccetera. Allora, se volete fare delle domande, fatele. Molto interessante, al punto che la TV non esiste più. Per seguire voi, molto meglio. Saluti dal Ghero, ciao. Allora, buonasera, ciao Red. Una domanda, se posso. Il giorno della morte di una mia cara amica, mentre dormo, ho notato da tre anni che mi si accende la TV e altre cose elettriche in casa, sempre più o meno alla stessa ora. Cosa ne pensate? Beh, mi sembra, Sabrina, ciao. Mi sembra abbastanza chiaro che questo è un messaggio sicuramente suo. Sicuramente. Usano spesso queste modalità. Quindi prendili tutti come dei regali immensi. Un'altra domanda per Sonia. Sono curioso di fare una domanda a Sonia. Gli incontri collettivi non potrebbero essere più impegnativi per lei se arrivassero entità che hanno collegamenti con tutte le persone del pubblico? No Marco, assolutamente, perché ci concentriamo anche sulla nostra sensibilità. Quindi oltre a fare contatti io, che naturalmente non posso fare contatti a tutti per, diciamo, mancanza di energia, che poi, insomma, l'energia cerchiamo sempre di tenerla alta. Siamo proprio noi, siete proprio voi a misurarvi con la vostra sensibilità e quindi capire che si può andare oltre in tutti i sensi. Ritroverò il mio cane? Certo, sarà il primo che vedrai. No, fra l'altro oggi tu hai parlato di un barboncino bianco che c'era. Cagnolino bianco tipo maltese o barboncino. E io ne ho uno dall'altra parte, sì. L'anno scorso ha varcato il ponte, come si suol dire. E tu ci parli tutti i giorni? Io sì, sì, sì. Cioè tu parli con i tuoi animali e tu sai che loro ti sentono? Sì, sì, assolutamente. Io mi ricordo che, e questo è capitato anni, anni fa, il passaggio, perché io non la chiamo mai come morte, il passaggio all'altra dimensione del secondo cagnolino che ho avuto, a distanza di quattro giorni l'ho ricevuto in metavisione. In metavisione significa? Che in immagine mi è arrivato. Ah. Non so se l'ho qui, potrei cercarla, insomma, magari là. Cioè si vede come un cucciolino di labrador. Allora, mi emoziona ancora molto questa cosa perché è incredibile. C'è questa natura senziente che poi in realtà si sa che lo spirito è ogni presente ed è sempre presente per l'appunto. E quindi è bello che possano manifestarsi in immagine. Sì, sì, sì. Allora, ho visto l'intervista alla Batrisarione che parla di persone morte in incidenti ancora legate al luogo. Cosa ne pensa Sonia? La Batrisarione ha detto che lui vede delle persone, cioè delle anime nel luogo degli incidenti che sono ancora ribloccate. Perché la morte improvvisa è... Sì, può essere che siano ancora incastrate perché nessuno le ha aiutate a staccarsi, a passare. E come si fa a staccarsi? Però solitamente c'è già qualcuno nell'altra dimensione che ci tende la mano e ci prende. Quindi... Cosa c'è? C'è caduta una cosa dietro. Ancora è caduta? Un filo si è alzato e è caduto. Si è alzato da solo. Come si è alzato da solo? Oh, pimba. Sì, è caduto il filo che era attaccato. Dai che dopo Crozza dice che sei tu che spegne. Ragazzi, quindi, fra l'altro oggi è la prima volta che si incontrano Sonia con Marina. Allora, io vi sento benissimo, Francesca Franci. Buonasera Red. Sonia è bellissima vederti così in forma. Puoi chiedere a Sonia quando verrai in Abruzzo? A me sono due volte che si accende l'abbattitore in casa. Sono sicura che mi viene a trovare il papà di una persona a me cara che è scomparso da qualche mese. Il primo episodio si è stato la mattina in cui lui è deceduto. Il secondo episodio è sabato mentre lo pensavo. Ma ci sono... Allora, Marina, ci sono un avvicinamento tra i mondi? Sì, l'ha detto anche Jimmy oggi, senza che lo dicessimo. Avvicinamento tra i mondi sta già accadendo. Non stiamo percependo tantissimo perché comunque gli animali soprattutto, è vero Marco? Lo sentono. Gli animali lo sentono tantissimo perché hanno molte più percezioni di noi. Io trovo ad esempio i miei cani spessissimo che si bloccano, leccano l'aria per esempio, come se ci fosse qualcuno davanti. Oppure c'è questa unione tra i mondi, tra il mondo spirituale e il mondo materiale e ci siamo proprio dentro, è proprio tangibile. Per chi ha un certo tipo di sensibilità, chiaramente di più. Però è un dato di fatto. Ok. Allora, poi tanti... Allora, Sonia, ultimamente io, anche adesso, vedi, adesso a limite se mi ha dato il numero di telefono la chiamo perché... Aspetta, no, dove cavolo sono? Qui. Vediamo un po'. No, non me l'ha mandato. Tante persone mi scrivono in un casino, tante persone mi scrivono in un casino, è un italiano perfetto, tra cui questa Alberta, che soprattutto quelli che hanno perso i figli. E tu dici, come faccio io a non parlarci con questi sperati? C'è un problema però, quando anche tu ci parli, dopo loro vogliono continuare anche... Ah no, non tutti. Non tutti, non è che poi diventa una dipendenza. Non accade quasi mai, però accade che quando un dolore, quando il dolore è così forte, c'è la necessità poi di sentirli, se almeno non riesce più a toccarli, ma almeno sentirli è una piccola certezza in più, quindi è comprensibile. Allora, Nami che ci saluta, ciao Re, ciao Marina, è stato veramente bello conoscervi di persone, entrambi, da noi. Redo ha iniziato, dopo la morte di mia madre, qualcosa mi ha spinto a seguirti, è tutto estremamente bello. In che senso gli animali non hanno anima? Ma che dici? Chi è che l'ha detto? Nessuno ha detto che gli animali non hanno anima. Ah, c'è Annalisa. Chi è Annalisa? Annalisa l'ho conosciuta, sì. Che hanno una maggiore sensibilità, abbiamo detto. Eh, certo, gli animali anzi. Anzi, anima. Anzi, tu, cosa che mi hai detto? Che una volta c'era uno che non poteva venire perché era a scuola di anima? Sì, da un cane. Da un cane? Sì. Che una persona... Un contatto? Eh. Sono impegnato, è impegnato, non può venire, era arrivato un altro perché è a lezione, a lezione di che cosa? Di anima da un cane. Eh. L'incattendere ci stanno proprio gli animali. Mamma mia, ragazzi. Allora, grazie a Red per gli stasera Feb4, alle Feb4, uno, due, tre, ah sì, siamo in quattro. Allora, Red, posso raccontarti gli episodi che riguardano il maestro Battiato? Invece di dire, posso raccontarti, magari se tu lo raccontavi già era meglio. Comunque, Jimmy ha detto qualcosa delle stars di oggi che non hanno più pensiero critico. Sì, ha parlato anche dei musicisti di oggi. Ha detto una frase, adesso non mi ricordo più, l'ho messo là dentro, quello che ha scritto. Comunque ha detto, vabbè, niente, che c'è troppo ego e meno... Che si è concentrati troppo sull'ego e non c'è più la sostanza. È poco sulla sostanza. Esatto. Poi dopo, invece, tu, prima a cena, mi volevi raccontare... Ho detto, fermati che me la racconti... Che cosa è successo? Racconta. Quando conobbi Sonia, noi ci siamo conosciuti ad un convegno... 50 anni più. 50 anni fa, all'epoca, quando ancora c'era il primo festival di Sonia. Esatto. Ci siamo poi, tempo dopo, ci siamo rincontrati... L'intento era quello di fare una sperimentazione a casa di Sonia. C'era anche una nostra cara amica. E io ero andato lì soltanto per fare una sperimentazione di metà visione. Lei a un certo punto, a me, mi disse, Marco, guarda, sento che devo farti un contatto, posso? Certo, l'ho detto assolutamente di sì. E quindi siamo scesi nella sua tavernetta, la tavernetta dei miracoli, e lì ci siamo rimasti per la bellezza di un'ora e mi ha raccontato delle cose, diciamo, incredibili. Ha cominciato a vedere... Le posso dire queste cose, no, Sonia? Ah, sono... Lo so che... Nella tua vita. No, ha cominciato questo contatto dicendo che... Ha cominciato a riempire un foglio con 0110001... Ti dice qualcosa questa sequenza numerica? Beh, sono numeri binari. No, è un'altra cosa, pensaci bene. E lì mi ricordai che effettivamente era già un po' di tempo che sentivo nella mia testa come dei segnali, delle scosse elettriche. E quello... Ma a modi... Ancora adesso sto cercando di decodificarlo. Lei mi ha detto, guarda che questa è una tua codifica. Che man mano che passerà il tempo a livello terrestre, ti... Cioè, riuscirai a comprendere esattamente in cosa consiste questo linguaggio. È un linguaggio tuo personale. Che ha a che fare poi anche con... Anche quello che canalizzo attraverso queste sperimentazioni metavisive. Poi mi parlò... Mi ricordo che mi disse tutti i nomi di mio padre, che sono sei. Quindi tutti, tutti. Venne poi la madre di mio padre, mia nonna, presentandosi col nome. È incredibile. E poi anche la mia nonna materna, anche presentandosi sempre col nome. Cioè, io rimasti veramente, devo dire, piacevolmente sconvolto. Perché è incredibile. Se si parla... E poi mi ha parlato anche delle Muriani. Ma sai perché mi ha parlato di numeri? Perché lui è un computer. D'era uno, d'era uno. Lo disse, sì. Dice una cosa del genere, sì. Eh beh, certo. Ma si vede. Tu non sei un essere umano. No. No. Dopo questa sera... Tu sei cosciente che non sei un essere umano, eh? Eh, mi state convincere. Allora, adesso, questo è un discorso importante che faccio. Chiedo di non essere travisato. Ascoltate bene le parole che dico. Giada scrive. Sonia, come sta Giulia adesso, la ragazza vittima di femminicidio? Hai avvertito sue vibrazioni? Chi subisce è morto così volamente, eccetera, eccetera. Allora, Giada e tutti voi, e tutti quelli che mi scrivono, che mi debbo occupare di questa situazione. Le vittime sono tante. Voi tutti siete vittime di una ipnosi di massa che entra in gioco per mettere sull'altare o davanti ai vostri occhi un caso. Quanti bambini sono morti tra Israele e Gaza? Quindi 5.000. Sono morti 5.000 bambini tra Israele e Gaza. Io non entro nel merito di chi abbia ragione o che ti abbia torto, ma sono morti 5.000 bambini. E tutti stanno parlando di una povera ragazza. Per l'amor di Dio, però, 5.000 versus uno. E siete vittime di un'ipnosi di massa. Tutti debbono parlare di quello. Io ricevo ogni giorno almeno 3 o 4 mail di persone che hanno fatto una canzone contro la violenza sulle donne. E io a loro dico. Madre Teresa di Calcutta disse non parteciperò a nessuna manifestazione contro la guerra, ma se hai fatto una manifestazione per la pace, vengo. Oggi mi è arrivato il libro I quattro accordi che regalerò a Don Minutella dove dice di non usare mai parole negative. Quindi vuoi fare una canzone per le donne? Fai una canzone d'amore per le donne, non contro il femminicidio. Anche perché poi c'è il fatto dell'emoluzione. Quando uno, le persone, quando vedono uno che diventa famoso, gli scrivono lettere. Mi ricordo che era Maso quello che aveva ucciso i genitori, che riceveva lettere di ragazzi innamorati in carcere. Perché? Perché siamo così affascinati dalla fama che per qualsiasi motivo uno diventi famoso, noi ne siamo rapiti. Ok? Allora cosa succede? Ci sono ragazzini stupidi, poverini, che fanno a gara con le patatine quelle lì e uno muore perché sono impossibili. Altri che per farci un selfie cadono nei burroni per far vedere che fanno una roba impossibile. La fama è qualcosa di assurdo. Ecco, ho fatto un discorso, un iperbole comunque, per dire che ci sono 5.000 bambini morti in Gaza, tra Gaza e Israele. Non entro nel merito di chi abbia ragione, chi abbia torto, chi abbia sorriso. Non entro in questo merito. 5.000 bambini morti. E tutti mi parlano di una ragazza. Ok? Va bene. Ok? Ecco. Vi prego di non fraintendere quello che ho detto, però, insomma, ragazzi, ho fatto bene? Senza nulla togliere al dolore che hanno appassionato. Certo! Però c'è un minimo di coerenza. Hai assolutamente ragione. Bravissimo Red, bravo Red, grazie. Manipulazione mentale. Esatto. Ho appena messo il tuo periodo, ho pensato che potessi essere adatto. Comunque mi chiamo Giulio. Sono in grado. Lo leggerò poi. Alzate il volume. Noi abbiamo, non abbiamo più volume, ragazzi. Io posso avvicinare i microfoni, ma non abbiamo più volume qui. Vieni a provare a alzare il volume del computer. Alzate il volume del computer. Io no, il mio volume è al massimo qui. Il mio volume è al massimo. Quello che ho qui è al massimo. Allora. Allora. La cronaca nera fa audience. Vi distraggono con la cronaca nera. Deviano l'attenzione. Verissimo, condivido. Che tristezza a tutti quei bimbi. Ve l'hanno mai detto che sono 5.000 bimbi morti? Non ve l'hanno mai detto? Ma ragazzi. È una vergogna la guerra, certo. Verità assoluta. ipocresia. Cioè, ragazzi, ma... Tutte queste cose... Tutte... Allora, vorrei chiedere a Sonia. Secondo lei, gli orari doppi... Cosa sono gli orari doppi? C'è gente che... La gente... Oggi ormai c'è anche un'altra ipnosi. Cioè, appena uno vede una lucina in cielo, mi arriva la foto. Ho visto un UFO. In realtà ci sono... Satelliti. Sono satelliti. Poi ci sono quelli tutti in fila che sono quelli dell'Hon Musk. Quelli sparsi che sono altri satelliti. E' visto ieri sera quelli. E' visto ieri sera? Sì. Che non sono UFO. No. Sono in un trenino in fila, però sono più a distanziati uno dall'altro. Grazie a tutti quelli che stanno condividendo il pensiero. Viviamo sotto una grande mappa che deve condizionare... Cioè, viviamo su una grande mappa che deve condizionare anima. Poi anche tutta sta roba qui. Adesso c'è la nuova parola. Patriarcato. Che non so che lo voglia dire. Cosa vuol dire patriarcato? Che comanda l'uomo. Ma dove comanda l'uomo? In virtù del fatto che Giulia è stata uccisa, in realtà l'uomo è il patriarca, no? Quindi è l'uomo che è il problema, ma in realtà... Ma a te ti ho mai comandato nessuno? No. No. Sonia, ti ho mai comandato nessuno? Non so come chiedere. Massimo, la comandi? No, non la comanda. No. Tu comandi? Sì. No. Nessuno comanda. No. Paolina comanda da te? No. Col cazzo. Cioè, se parliamo con Paolina per riuscire a farti arrivare qualche messaggio. traduttrice. 5.000 bambini, nessuno ne parla. Se le prime pagine dei giornali avessero messo le foto di 100 bambini palestiani uccisi durante la guerra, la guerra finirebbe. Ma sono tante cose. Ma attenzione, io ripeto, ripeto, molte volte una guerra è voluta da entrambe le parti, quasi sempre. Non entro in questo merito, entro soltanto nel merito che vengono totalmente ignorati 5.000 bambini uccisi mentre si parla solo di una povera ragazza sfortunata, poverina, eccetera. Questo qui, adesso, cioè adesso è lui il protagonista. Tu non apri una pagina giornale? Allora, oggi aprivo per vedere cosa era successo, aprivo soltanto l'home page. Ah, ha chiesto di se può leggere. Sarò che notizia che abbiamo, ragazzi. L'assassino chiede se può leggere e lei non pegarà. Ma basta, ragazzi. Anche gli adulti sono innocenti in guerra. Esatto. Però i bambini, ragazzi, i bambini, quindi. Ma tutti assieme. Non so, cambiamo discorso. Hai ragione, cambiamo discorso. Allora, dobbiamo essere disposti a lavorare perché dobbiamo, per l'ascensione planetaria con azioni concrete. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Sì, questa è una frase di, credo, di... Di Gandhi. Di Gandhi, sì. Che io l'ho vista bellissima a Dakar. Sì, tu il cambiamento che vuoi a Dakar in un giardino che hanno fatto molto bello. C'era questa frase che mi ha colpito molto. Allora. Bene. Allora, la cosa piccione è che non rispetto a gioia. L'altra sera la mia gatta ha cominciato a guardare la porta a muovere la testa come se ci fosse qualcuno. Poco dopo la mia vecchia smart use è accesa da sola. Ho pensato a mia mamma. Che ne dice, Sonia? Può essere. Allora, durante la tua diretta dedicata a lui, due giorni di partita, il maestro Battiato accese un'altra stanza, un amplificatore Bose, che non utilizzavo da un anno. La sua voce risuonò in casa. Possono succedere queste cose? Certo. Cioè, non è... Che bella combricola stasera. Antonello Brunetti. Mancavi solo tu, guarda. Ma sei a Londra, fra un po' ti raggiungono anche altri. Ignorati, 5.000 bambini e 15.000 donne devono partorire e sono abbandonate tra le macerie. Ragazzi, grande Ronnie, questa è una ragazza, sono d'accordissimo con te. Chiudiamo questo argomento. Spero che non me ne parlino più e niente. Allora, una cosa importante che voglio dire è questa. Sonia, tu sei sommersa di richieste di persone che vogliono sapere dei loro cari. Ma i loro cari ci sono. Se voi leggete il libro di Sonia, guardate anche quella ragazza, la madre di Carlotta, credo, che venne dentro nella mia diretta. Cioè, esistono. Quando qualcuno mi scrive e dice voglio assolutamente... Perché... Guarda che c'è. Stai tranquillo. Non è andare da lei e poi dopo... Certo, lei ha fatto tantissimo bene perché anche adesso hai parlato con i genitori di una bambina, no? Sì, sì, sì. Io se sto bene e ce la faccio, lo faccio perché non riesco a girare le spalle, a non farlo. Logico che non ho più l'energia di prima, non ho più il fisico di prima e quindi faccio quello che riesco. Certo, ascoltami. Vuoi cominciare a vedere chi c'è qui dentro? Sì, diamo se c'è. Allora, adesso vedrete. Tu mi devi però spiegare una cosa perché tu ho visto oggi quando c'era Jimmy Hendrix, tu ho visto in azione all'OM sul lago di Garda, ok? Tu, mentre... Intanto, come funziona? Perché tu fai... Tutti quei gesti? No, non sono gesti meramente coreografici. sono manovre di attivazione. Cioè? È un... Allora, io entro in un particolare stato di coscienza che... cioè, nel quale interviene qualcos'altro che mi fa compiere questi gesti e bisogna viverla l'esperienza, chiaramente, per poterla spiegare appieno. e questo serve per creare una sorta di sintonia a livello frequenziale perché noi stiamo andando a veicolare chiamiamole sempre energie. Insomma, si creano questi ponti che sono... sostanzialmente si parla dei ponti di Einstein-Rosen, quindi sono dei cunicoli spazio-temporali attraverso i quali queste informazioni a livello fotonico, quindi a livello luminoso, arrivano. E quindi arrivano in formato di immagine. Quindi è chiaro che è come aprire, diciamo così, dei portali, sostanzialmente. Quindi anche a livello, se vogliamo o no, biblico-religioso, ci sono tante strutture simboliche che si fanno con le mani, naturalmente. Poi anche padre Bissarione ci ha spiegato come fare correttamente anche il segno della croce. Perché... Perché com'è il segno della croce? Realmente sarebbe così noi, padre, il figlio dello Spirito Santo. Cioè, in maniera diversa... Sì, perché così mandi in chiusura, se no il canale effettivamente lo sbarri in questa maniera, mentre così tu lo mantieni aperto. Oh, sì, sì. E poi le dita. Sì, sì, e le dita devono essere, sì, certo. Certo, le dita devono essere così e poi il nome del padre, del figlio... Non figlio in fondo, però. Non? Non troppo in basso, perché sennò la croce risulta rovesciata. Ah, il nome del padre. Furbi, eh. Esatto. Del figlio dello Spirito Santo. Santo, ame. Un'altra cosa che ha detto padre Vissarione, molto interessante, è questa. Andate a vedere le interviste, la spiega molto bene. Noi, quando... Lui dice, parte dal fatto che quando arriveranno all'astronave ci porteranno nell'altra dimensione, dove non c'è tempo. Mentre qui c'è il tempo, di là non c'è il tempo. E dice che qui ci hanno messo... è il maligno che ci ha messo il tempo. Inoltre, cosa importante, quando noi compiamo gli anni e mettiamo le candeline, accendiamo le candeline e le spegniamo, noi spegniamo il fuoco, spegniamo la vita, la fiamma, spegniamo la fiamma con il nostro respiro. Quindi è una cosa negativissima. Bisogna farlo con le mani. La sapevo. La sapevi? Quello bisogna fare? Sì. Oppure bagnazzi. O con le dita. Oppure non mettere le candeline. Perché devi mettere le candeline? Perché sono belle. Ma sono belle? Ma inserire, ma come faccio con una cosa? Cosa te ne frega che sono belle? Insomma. E quindi tu le spegni? Certo. Comunque spegni... Con le mani? Non so più. Con le mani, con il culo. Ma cagare Sonia, dai, ma no, ma non devi fare così. Sì, scusa. Perché devi spegnere la fiamma? Perché mi piace. Ma è una fiamma, la spegni? L'ho sempre fatto e continuerò a farlo. Continuerò a spegnere le candeline. Cioè, hai capito? Ma nella vita capisci poi le cose dopo. E capisci che spegnere la fiamma non va bene. Mi vuoi, mi hai fatto mettere a via le bambole. Adesso devo anche smettere di spegnere le candeline. Le bambole sempre per colpa di padre Vissarione. Sì, le candeline... E la padre Vissarione. Perché ha trovato il maligno che si mette dentro le bambole. Ci sono... Perché Sonia era piena di bambole. Mi trasformi già. Dove le hai messe le bambole? In taverna. In taverna. Povero. Dei mettere via, fuori di... Però tutti i giorni vado a vedere. No, no, no. Eh, no, è vero. Ne ho tenute due in camera. Con gli alterini. Nello e la Sofia. Ma non è possibile, cavolo, ragazzi. Nello e l'orango. Io gli do i consigli, eh. Sono peggio. Nello e Sofia sono peggio. No, Nello e l'orango. Ah, beh, c'ha l'orango. È vero che c'ha l'orango. È vero che l'ho visto. Allora, ma come, Red? Ogni anno metto le candeline della mia età. Quest'anno ne ho spente 44. Non posso con le mani. Mi ostiono, mannaggia. Non le devi spegnere. Non devi neanche mettere le candeline. Devi spegnerle, devi... Questo mi chiede se sono Angela dei ricchi e poveri. No. Non ho gli occhi azzurri. Allora, io ho paura delle bambole in porcellana. Ha ragione che a me piace spogne le candeline. Spegne la fiamma, non va bene, dillo ai pompieri. Eh, vabbè, ragazzi. Cioè, ragazzi. Sonia, perché mi sento profondamente regato al popolo rosso? Russo o rosso? Rosso. No, non ho capito, giuro. Non lo so. Uno si sente legato al popolo rosso. Che mi dite dei famosi 21 grammi? I 21 grammi sarebbe il peso dell'anima. Dell'anima, sì. Non so, non è pesata. Ho visto troppi film. Allora, andiamo. Non sapevo delle candeline. Fra le prossime, per me non esiste il compleanno senza candele nella torta. Ho capito. Allora, continuate a spegnere le candeline. Però guardatevi l'intervista con Bissarone che vi spiega benissimo il perché non bisogna spegnere le candeline. Però, caspita, ero sempre sbagliato in segnale la croce. Flavio, non solo tu, anche io, eh. Tutti avevano sempre sbagliato in segnale la croce perché ce l'hanno insegnato in maniera sbagliata. Allora, guarda, ecco, mancava solo lei, guarda, aspetta, aspetta, mancava solo lei. Pronto? Accendi la telecamera. Ecco qua. Io non ti vedo. Sembra un fantasmino. Sembra un fantasmino. Però guarda chi c'è qui. Qui c'è Sonia Benassi, Marina Tonini, Luca Donini e Marco Luzzatto. Eh? E' una grande festa da quelle parti. E' certo, Linda. Linda Corriers da Cagliari. Ciao, Linda. Eh, ma dopo domani ci sono anch'io. Eh sì, lo so che dopo domani ci sei anche te. Ci vediamo dopo domani. Fra l'altro, non ho più... Fra l'altro, tu hai espresso il desiderio che io non doveci fare la diretta, mercoledì non c'ho la diretta. Non ho capito niente ma va comunque bene. Ok, ok. Ok, ciao Linda. Dai, ciao Linda. Buona serata. Ci vediamo domani. Ciao. Molta luce domani. Mi raccomando. Molta luce. Molta luce. Perché molta luce domani? Perché sì, udienza importante. Molta luce. Tutti a lavoro. Hai un'udienza importante domani? Sì, importante per tutti. Forza. Molta luce. Ok, allora pensate che domani Linda Corriere deve difendere bene e andare bene, ok? Tutti. Ciao Linda. Tutti. Ciao. Baci, baci, ciao. Ecco, ci mancava solo lei perché qui... Ormai siamo in una combricola mica... Gianni Bersanetti. Cosa dice? Adesso leggo un po' io. Red, ma quando è che Sonia telefona a Jimmy e ci parla insieme? Ma non è che... Ma no, Gianni, lui non ha il cellulare, ha il telefono fisso. Non posso chiamarlo. Non ha il cellulare. Domanda per Marina. Per quelli come me che si trovano con vibrazioni basse, c'è la possibilità di contattare i fratelli delle stelle per chiedere il loro aiuto? Vibrazioni basse. Come fai se perché hai vibrazioni basse? Primo. Primo? Primo. Se tu... Non credo perché sei qui, quindi... No, ma poi dopo che... Cos'è questo? Però c'è un occhio. Aia. Aia. Aia, l'occhio. Aia. Alza le vibrazioni. Mi sa proprio che te... Te sei messo... Hai capito? Eh, ragazzi. Cos'è? Cosa vuoi mettere? Questo? No, 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 aspetta. Non sapevo delle... Tant'è facendo la trasmissione sulle candeline insieme al dialogo di un film di Tarantino. No, non è la trasmissione sulle candeline. Allora, ci sono tanti simboli, tanti segnali, ma tu hai cominciato a fare le tue cose. No, pensavo che... Stavo tendendo un vostro... No, perché poi vi ho parlato dove raccontare, ho raccontato... Comincio. Cioè... Ah, no, sì. Allora, tu... Esatto, non abbiamo raccontato. Allora, tu hai un computer, un blender che non so cos'è e una macchina fotografica. Esatto. Io creo con questo macchinario questa corrente video, questo segnale video che è privo di controllo. Quindi vediamo... Allo spettatore... L'ospettatore vede soltanto un cumulo di macchie che vanno e vengono, biancastre, prive di significarlo. E si parla in gioco tecnico di flusso incoerente. Cosa succede? Che ad un certo punto io poi riprendo queste macchie sullo schermo, macchie generate, lo ribadiamo da questo strumento che ho dato io che si chiama Blendar, e faccio una registrazione con la fotocamera e registro a 50 fotogrammi al secondo. Dopo che effetto questa registrazione vado a controllare in seconda battuta il filmato fotogramma per fotogramma e tra un fotogramma e l'altro in alcuni punti si notano delle presenze, chiamiamole così, delle immagini molto oggettive. Soprattutto abbiamo immagini come avevo detto poc'anzi di tipo antropomorfo. Attenzione, c'è un coro di fare... Tu non è che registri dei minuti, tu hai un input... Ho un input, sì, ad un certo punto sento un segnale in mezzo al cranio una scossa, devo dire proprio, usate questo termine perché questo è, che mi segnala che è il momento di registrare. Quando la risento una seconda volta so che posso tranquillamente spegnere la registrazione, interromperla e poi da lì poi il file che ho creato lo andrò successivamente a scansionare. Cioè vai a vedere tutti i fotogrammi. Fotogrammi, esatto, nel cercare esattamente la posizione in cui... abbiamo sempre nell'arco se facciamo un 30 secondi l'energia è davvero alta possiamo avere anche due, tre manifestazioni. C'è da dire che oggi è stata una cosa abbastanza per così dire ecco, eccezionale perché in genere immagini così chiare si hanno con... cioè in presenza di tanta gente perché c'è più energia a livello anche psichico quindi questa energia può essere presa sempre da questo... da queste dimensioni altre e plasmata in modalità di immagine detto proprio così in parole povere quindi è chiaro che quando si è in pochi l'energia deve essere bisogna comunque tenerla abbastanza alta quindi si aprono dei canali che poi io dico sempre noi raggiungiamo questi canali i canali ci sono sempre quindi bisogna elevare le nostre vibrazioni ed ecco che allora si accede ad altre soglie che vanno o ben oltre il dominio del tempo e dello spazio e riusciamo anche la materia cambia proprio il suo flusso e quindi sono possibili questo tipo di comunicazioni è incredibile a dire che così sembrano delle storie però effettivamente all'atto pratico abbiamo appunto dei segnali oggettivi esatto allora rimane un'altra cosa che ti ho chiesto cioè quando tu stai lì che non so se è il momento in cui stai registrando o mentre aspetti tu fai dei gesti sia quando registro che quando attendo assolutamente per rinforzare se vedo che il segnale video non si muove come dovrebbe perché si deve creare una bisogna dovreste vederla si crea un flusso particolare si modifica il segnale letteralmente ci sono queste sfere che giungono ad alta velocità e quelle documentano il passaggio di qualcosa potrebbero essere viste come un'apertura di questo portale ed è dimostrabile ampiamente dimostrabile anche scientificamente e quindi facendo questi gesti è un po' come mettersi vi ricordate davanti l'antenna soprattutto via HF in cui se ti posizionavi così vedevi meglio il canale se invece ti allontanavi un po' la Mr Bean detto così simpaticamente ecco facendo così noi ci garantiamo andiamo a plasmare questi canali diciamo così e quindi riusciamo a far erogare a queste brecce che si creano maggiore energia è incredibile la struttura delle altre dimensioni è molto particolare ricorda molto il tessuto neurale perché a me quando soprattutto quando entro in questo stato alterato della coscienza vedo meglio il flusso materico che governa la nostra materia fisica cioè ogni oggetto ogni cosa è attorniata da queste strutture neurali nevralgiche bene allora visto che no visto che a parte chiudiamo il discorso candeline padre Vissarione ha detto che non bisogna spegnere candeline del nostro compilanno perché simbolicamente spegniamo la nostra luce quindi te non le spegni più ma di soffiarci ha detto di non soffiarci spegnere te te non le accendi più te lascia le tutte accese te le lascia accese però posso accenderle si le accendi però non le spegni ok va bene ok lascia che le spegne in maniera naturale allora la torta va male la torta va male filo filo ti ci metti anche te cazzo poi adesso allora io faccio una proposta attenzione siccome padre Vissarione la parte Vissarione ha detto che lui metteva delle frequenze con campane tibetane l'hai vista l'intervista non l'hai vista no ma però la guarderò Paolina poi gli dai ne spero se neanche per te allora siccome lui ha detto che lui faccia sempre questa cerimonia fra l'altro accendendo e con della musica in campane tibetane la sua frequenza ha tirato gli extraterrestri allora io adesso faccio una proposta quando lui è pronto tu fai un po' di musica con i tuoi aggeggi e noi in silenzio lasciamo che lui veda chi si manifesta con la musica che tu stai facendo va bene ci stai? ci sto ci sto va bene servono le campane tibetane? c'hai le campane tibetane? ma ne ho un paio ma il flauto è meglio ma faccio con il flauto fai con il flauto no no non abbiamo bisogno che arrivi gli extraterrestri soltanto che vengono delle formule insomma quindi allora tu Marco mi devi dire quando sei pronto sì tempo due minuti allora tanti vogliono sapere se i numeri doppi per esempio sono i genitori eccetera state tranquilli domanda per sogno ho chiamato per incontri canto domenica ma non mi hanno risposto come posso fare? sold out già da tutto esaurito già da mo perché la bimba va via come il pane allora Reda e Giorgione vedi Angelo le candele sono pericolore soprattutto quelle delle torte perché non sono fatte in cera ma sono fatte in paraffina e soprattutto hanno una sostanza tossica ecco vedi basta candele della torta ma il fatto che la torta mi vada male ancora Filo sei preoccupato della torta allora quindi se hai la scossa in mezzo al cranio non è proprio un metodo scientifico dipende dall'operatore domanda per me non è che allora fermi tutti fermi tutti allora c'era una frase molto bella che dice quando uno fa delle robe strane non provate a farlo perché non siete spesso allora non provate di imitare Marco Luzzatto perché non è di questo mondo non è della terra quindi lasciate stare lasciate lo fare con calma si parla di medianità un tipo di medianità fisica ecco mi accendo l'incenso e vi ascolto questa è una bella cosa che stai facendo accendi l'incenso ma se accendiamo un bacchetto di incenso sulla torta cosa succede? un bacchetto oh ma Filo si è andato con la torta stasera c'è Filo che ha la torta qui stasera non ti ha bastato ma sto trovando soluzioni per me allora Sonia ti prego dimmi se gli orari dopo possono essere un messaggio di mia madre si ci deve essere però la sincronicità magari nel momento in cui tu stai pensando a tua mamma vedi l'orario doppio non è che tutte le volte che vedi l'orario doppio è la mamma certo ascolta Sonia posso dirti una roba noi facciamo un momento di pausa musicale se ti viene qualcuno scrivi se no no ok quindi adesso tu inquadra Marco Luzzatto e Luca Donini e partiamo vai vai musica e a Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il contatto. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. qui a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. non può... Grazie a tutti. 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 In genere, Grazie a tutti. 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 829. Grazie a tutti. 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 niente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. facciamo questo. Aspetta. Grazie a tutti. 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 faccio. faccio. Allora, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. ci sono tanti. immagini sopra, e a tutti. queste cose. ci sono, ci sono, e c'è, ecco, di tutti. e, ecco, poi, anche qua, che si possono fare, scrittura, e, Ah, esatto. che, che sia un po', e, perché, che è un ritmo, che ti, c'era di più, cioè, Allora vi dico, sono già quasi le 11, sono le 22.54, vi ho tenuti qui tantissimo tempo, vi dovevo lasciare andare prima, però vedi, guarda Marco, è là che cerca lui, lui cerca le immagini, e dici, te proprio, te vivi qui dentro. Io vado avanti anche delle ore. Ma tu lo fai anche a casa tua per i cavoli tuoi. Sì, è un po' di tempo, prediligo sperimentare in pubblico perché è meglio, perché in casa rimangono poi magari delle frequenze che entrano in risonanza e magari poi non dormo. E quindi qui dentro c'entra la... No, qui siamo sicuramente saturi. C'era gente, tanta gente. Gente, ma ci sono poi anche correnti psichiche perché quando si fanno molti ragionamenti il nostro cervello emette onde elettromagnetiche oltre che ricevere, quindi siamo tutti degli hot point, dei punti molto caldi, quindi è normale che il segnale vada in saturazione. Io non mi tiro mai indietro, io potrei andare avanti. E se andassimo avanti sicuramente avrebbero ancora dei buoni risultati. Bisogna invece però procedere perché è attalenante l'energia. Però quindi domani sera quando io faccio We Have a Dream qui dentro c'è ancora tutti questi? Ma diciamo che sicuramente molte sono correnti psichiche, quindi le idee, come discorso che se entri in una stanza nella quale avvengono spesso dei litigi, uno non si trova tanto bene perché rimangono anche queste forme. Forme pensino. Sì, e la saturazione del segnale la si nota dal fatto che si sovrappongono perché in genere quando abbiamo delle immagini molto chiare è perché riusciamo ad affettare nettamente una zona di spazio che si parla, in un gergo tecnico, di scansione olografica. In questo senso invece abbiamo molti più fotogrammi messi insieme. Infatti se andiamo a vedere i fotogrammi che abbiamo ricevuto prima, c'è il risultato ma è sovrapposto a tantissimi altri. Quindi capitano queste cose. È capitato alcune volte anche a me, bisogna riuscire a fare bene la sperimentazione, ma va bene, nel senso che è una realtà che comunque si può sempre documentare. Sembra che siete in un film di ghost con un sacco di anime che vogliono essere contattate. Sì, ma ghost è molto reale come film. Sì? Secondo me è uno dei film più reali, cioè che rappresenta meglio il contatto. Ah. Assolutamente. Allora Sonia, buona notte. Sì. A tutti. Sei stata bene? Benissimo. Sei stanca? Grazie. No. No. Però dobbiamo andare a casa. Anche perché chi ci avete a casa? La babysitter. Avete la babysitter degli animali? Sì. Ah già. Perché lei ha... Tu Massimo hai mandato un video della tua... Della tua... È una meraviglia. Guarda, aspetta che se ce l'ho l'ho inoltre. Fammi dare un'occhiata. Sarà la spaparanzata sul divano. Sì, ragazzi. Però l'altro, il primo contatto che ho fatto con... 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 Cosa? Con... Aspetta Benassi. Vediamo Massimo. Ben... Benassi. Allora. Eccolo qua. Il primo contatto che ho fatto con Jimi Hendrix. Mentre c'era Jimi Hendrix... No. Ma no. Non è... Dov'è quello che mi hai mandato con tutti le freccine? Era un youtuber, eh? Ah, no. Ma mandami il video, perché YouTube... Se mi mandi il video... Me lo dico. È il primo contatto che ho fatto con Jimi Hendrix. Lei parla con Jimi Hendrix... E di qua avevo... Quel cane... Quello... Quello... L'Evriero. L'Evriero. E c'era... La maialona, la tutta sdreata, che dormiva. No. Che... Che gli ha mangiato... L'integratore. C'era qua solo. Eh? Non trovo la borsa con la testa tirato fuori il barattolo. Se l'ha mangiato. Aspetta. Tutti. Cosa c'è? Ti ha mangiato l'integratore? Mi ha mangiato l'integratore. A Ziggy. Ah! Sì! Sì! È andata dentro la mia cosa e si è mangiato i miei integratori. Barattolo e gli integratori. Il barattolo, là. È arrivato con delle peniche e dico... Ma mi sembra che... È andata a sgrufolare dentro... Sgrufolare. Sì, beh. Cosa fa? Non sgrufolare? Sì, sì. Eh, sgrufola. E quindi sgrufolare e a mangiare... Eccola qua. Chi c'è qua sotto? Che è andata qua sotto da sola? Chi c'è qua? La cicоне. Farà manna. Sì. Tutta bella cocetta. Ecco, questa è quella che gli aspetta a casa, quindi... E quindi... Ok. Allora. Allora, che mangiare? Red, ti piaccia? Allora Sonia della chat Sonia della chat Ma te che te frega se non rispondo Io continuo a scrivere Fai qualcos'altro Non ho capito Sonia Quindi c'è una Sonia nella chat Ah Sonia nella chat Ah ho capito Ah quella là Non leggono, bevono Ah ma perché Siete in 8000 io devo rispondere a tutti O più di rispondere così Dove trovate un programma Dove interagisce così come questo Non c'è, non esiste Da nessuna parte Quindi capito Allora Sonia te miro tanto Eccetera eccetera Ok Sonia No 11 adesso Cosa? Cos'è successo? No 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 sono le 11 Io vi abbandono Ciao Ciao Ma credo vadino anche gli altri Ciao Grazie Grazie a te Oggi è stato bellissimo con Sonia Poi su redoni.tv ci sarà Ci sarà il video Anche tutta l'attesa Perché è bellissimo l'attesa Perché avevamo tutti qui in silenzio Tutto era pieno E avevamo in silenzio E scriveva 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 Adesso puoi cominciare a smontare Marco Questo è un altro parziale Che c'era nella registrazione Gira 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 Girolo perché altrimenti non lo vediamo È più caotico Ma te l'ho dato la pennetta Non me l'hai messo Ah no te lo metto sulla pennetta Aspetta Allora dammi Qualche tempo sulla terra Sono l'inizio della fine Il cambiamento è già iniziato Non sono l'inizio della fine Sono l'inizio del grandissimo cambiamento Della costruzione Come ha detto Jimi Hendrix Esatto Complimenti Siete una grande squadra Lo so Lo so Ci siamo trovati Fantastici ragazzi Grazie Sonia Un abbraccio a tutti Grazie alla compagnia Non vedo l'ora di vedere il video Se sei abbonato a redoni.tv Lo vedrai Anche perché abbiamo deciso appunto Di contattare Jim Morrison Noi non contattiamo Io non Sono loro che vengono Sono loro che vengono Grafica per Marina Smettete di scrivere Perché Marina Marina non ne facciamo più Però Però vi prometto Vi prometto Che noi faremo presto Quando lo facciamo una Aspetta no Cos'è fatto lì Allora Annulla Quando facciamo una serata Tutta dedicata Di grafologia Così facciamo anche la scrittura Degli artisti Sì facciamo Faremo una scrittura Degli artisti C'è ad esempio Jimmy Hendrix Jim Morrison Questi qui Dei grandi artisti Faremo una scrittura E lei le analizzerà E poi dopo Come stasera Però quella volta Creeremo una mail Apposta Dove voi potete Mandare gli iscritti Prima Ok E poi Li analizzeremo Tutti vogliono Contattare Labate Vissarione Labate Vissarione È in Grecia Dovete scrivere Al suo monastero Però dovete scrivere A me Che vi do Poi l'indirizzo Perché adesso Qui non ce l'ho Sì Potete scrivergli E poi Se volete Contattarlo Dovete andare là Allora Giovanni dice Allora in intervista Labate Vissarione Si parlava Che il cip Infilato nella mano Sarebbe l'ultimo sigillo Della bestia Che quindi Ci sarebbe ancora Una possibilità Per i vaccinati Allora Giovanni Ricordati una roba Non ti preoccupare Tu ama Vogli bene Alle persone Crea amore E fottitene Ok Di sicuro D'ora in poi Ricordati che I no Dolorosi Sono quelli più efficaci Quindi la prossima volta No Ok Va bene Ok Grande energia In quello studio Aspettiamo un'altra volta Rimini Osteria Argentina Home solo del bene Grazie Sì Ok Allora Buonanotte Anche Anche Io vado a letto Grazie di tutto Perfetto Allora Tu come sei messo? No La cosa bella è questa Che Marco Luzzatto ha detto Io devo andare via presto Perché poi a fare queste cose Gli occhietti sfarfallano Guardate ci ha fatto una story su Instagram Sulla roba Che gli occhi sfarfallano E poi non va più via Arrivo Cioè se io non gli dico niente Io qui vado avanti fino alle due di stanotte E lui è ancora lì tutto Eh ma il mio problema è proprio questo Che io mi conosco Ah tu ti conosci E quindi? E quindi poi so già che ormai mi sono scavato la fossa Allora guarda questo anche questo è un parziale Lo vedi da qui Vabbè ti passo la chiavetta Dammi la chiavetta poi se me la fai Dopo io li metto su Sì diventando questo è quello più Poi vado avanti con E poi se lo vedi Se riesci a vederlo Eh aspetta Se lo vedi Se riesci a vederlo Cioè ho la chiavetta in mano No ma io dopo che finisco di Lo vedo lo vedo lo vedo Però è bello Si potrebbe fare tutta quanta una serata A me piaceva una volta mettermi e farla in diretta L'abbiamo fatta in Mebius E' più estenuante soprattutto per chi assiste Perché ci vuole molta pazienza alcune volte Dipende poi dai momenti Vediamo un po' Allora Allora Cos'è questo? E' questo senza titolo giusto? Si si senza titolo Si ho fatto Allora Vedi che c'è Aspetta un momento Deve esportare in JPEG per vederla Altrimenti non la vedo Perché il BMP non lo vede Allora è questo o questo qui? No quelli erano Si si erano Per fare sovrapposizioni Allora Allora Schivania No li apri una volta E li scrincio tutti All'anteprima Ecco fatto Eccolo qui guarda Vedi che quello già si vede di più L'hai fatto stasera? Si si E di adesso Di adesso Se tu lo vedi in lontananza Vedi che c'è un volto Molto più grande in realtà Perché è il medesimo Perché è olografico Vedete Da qui può sembrare più grosso il volto Mentre in realtà è quell'altro Che è lì Si vede il mento Avete riuscito a vederlo? Si Si Da qui si vede E qui Dov'è? Lo vedete voi? Questo Si questo lo vedo Certo E poi in lontananza Se vai in lontananza Noterai che In realtà c'è un volto più grande Dove sarebbe Eccolo Qual è il mento Scusa Vedi Occhio Occhio Nase Bosca Il volto che vediamo al centro In realtà I due occhi diventa un occhio Accanto c'è l'altro occhio Porca Si si E spesso dove c'è un volto Ce n'è uno più grande Eh Si 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 Ok Mamma mia ragazzi Una faccia esatta Ah ragazzi Ragazzi Continuo a vedere Lucio Battisti Eh beh già da Ti piace Lucio Battisti Vuoi vedere Lucio Battisti Lucio Battisti Allora Eh Poi comunque Bernard Roush Che ho scritto sbagliando Per proporre delle meditazioni e preghiere Oh Hubert Domani sera We have a dream Troviamo ancora Marco Luzzatto Se forse si Si Certo Se io dico Guarda Marco Qui c'è il divano Se vuoi rimani qui Lui ci mette lì Il lavoro Tuttonotte C'era Fausto Misonella Che mi diceva Ma io posso stare qui C'è il jukebox C'è il divano Io vorrei dormire qui Voleva dormire qui Non lo ricordo Non l'ha mai fatto Non l'ha mai fatto però Eravamo ancora dall'altra parte Eravamo ancora dall'altra parte Certo Qui non è mai venuto Qui è venuto soltanto Vedere il posto Lo ha benedetto Ha detto molto bello Era ancora tutto da fare Ha detto O inaugurerai tu E di fatti Hai poi inaugurato lui Perché abbiamo fatto Abbiamo inaugurato Con una serata dedicata A Fausto Misonella Perché poi è andato via Che macchina fotografica usa? Non è la macchina fotografica È il blender La macchina fotografica Una qualsiasi Qualsiasi che registra 50 Hai capito? Ok Grande Marco Luffatto Va bene Allora Ciao Red Ciao Ok Ciao Ciao Red Andiamo anche noi allora Sì Sì adesso Allora migro Allora anch'io Migriamo Perché Marco Non vuole andare via È lì Non gli va di smontare tutto È tutto bello collegato Adesso mi tocca smontare tutto Sì beh ma è normale stancarsi Quando si Mediamente Quando faccio questo tipo Di sperimentazione Perdo fino anche a mezzo chilo Dopo lo recupero Il giorno dopo già Perché vanno via molti fluidi Quindi può essere Magari pomeriggio Magari c'è stato il boom E quindi Normale Però è bello A me piace mettermi Mi piace Cioè Però poi stasera abbiamo mangiato bene Anzi grazie Red Sì è stato molto Stasera abbiamo mangiato al pit stop Che è un altro locale Che è l'Interporto Creato da Gennaro Del Duca di Bentivoglio Perché oggi il Duca di Bentivoglio Era chiuso Però siamo andati in queste Guardate Guardate le storie Le storie su Instagram mia Vedete il luogo dove abbiamo mangiato Cosa abbiamo mangiato E quindi Ok Ok ragazzi Ciao Red Grazie Ciao Ci vediamo lunedì prossimo Lunedì prossimo Allora Lunedì prossimo ragazzi Ci vediamo qui con loro Io adesso sto ancora qui un po' con voi Però lunedì prossimo ci vediamo Ciao Luca Ciao Red Ascolta Perché non mostri il lato migliore tuo Quale sarebbe Vieni qua Paolina Vieni Paolina Vieni Mi fai fare brutta figura No ma che ti prego No no non vai fuori Vieni qui Un attimo solo Paolina Ma che per favore Guarda si gira la telecamera Cioè perché vuoi far girare la telecamera Vieni qua Scusa Portala qui Marina Portami la Paolina Ti prego Red No Ma perché no No la prossima volta La prossima La prossima volta La prossima volta Tante prossime volte Ci sarà Ci sarà Una sera Vendo due Ci sarà Questo amore vivrà Tante prossime volte Allora grazie ai tuoi ospiti Sì Bene Bene ragazzi Grazie per aver accompagnato Adesso rispondo io a delle domande Se ne avete Sono qui Che rispondo alle domande Vi ricordo Per approfondire Sonia Benassi Questo è il libro Io Medio Un'etetica E' bellissimo Io non ce l'ho fatta Leggere tutto in una volta Perché Piangevo A leggere queste cose Perché è stato E' stato bellissimo Allora Alleluia Andiamo via a dormire In Moscatino Veritas Com'è andato il congresso In Messico Non lo so Devo sentire L'ho sentito al volo Pier Giorgio Caria Ma Che ne pensi degli alieni In Perù Non lo so L'ho scritto mille volte Quello è scritto mille volte Adesso Regimi Andi Si è palesato Sì Oggi è stato Un contatto Lo aveva promesso Poi ci è stata una cosa Molto strana Che chiaramente non svelo Ma Pazzesca Una coincidenza Allora aspetta un attimo Ecco fatto Così Ok Va buono Oggi c'è stata Una coincidenza Pazzesca Con Jimi Hendrix Perché mi è arrivato Un messaggio Fra l'altro Da Guaita Macchi Il più scettico Quello che gli è andata via La corrente Quando diceva Che mi avevano fatto Uno scherzetto Molto bello Allora Che canzone cantavi Tante prossime volte Una canzone Di Credo di Little Tony Fammi sentire Chi era Tante prossime volte C'era Little Tony Fammi vedere Allora C'era Little Tony Perlomeno La canzone si chiamava Tante prossime volte Tante 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 Prossime Volte Little Tony Esatto Little Tony Tante prossime volte Una canzone di Little Tony E' molto Molto creativa A me piace La canzone di Little Tony Allora Come mai che hai venduto La chitarra di Jimi Hendrix Bene Non posso risponderti Sai perché Non posso risponderti Perché hai sbagliato Scrivere il nome Di Jimi Hendrix Quindi quando L'imparerai Scrivi il nome Di Jimi Hendrix Potrò anche Potrò anche Risponderti Bisogna cominciare A scrivere bene Bisogna cominciare A informarci bene Eh L'ho detto 96.000 volte L'ha detto anche Jimi Hendrix Vatti a vedere Su Redroni.tv C'è anche la favola C'è la favola Quindi Non Non C'era Quindi ragazzi Red Vi voglio un mondo Di bene a tutti E' un momento bellissimo Almeno per me La mia mente Vaga nelle lettere Sono contento per te Allora Sonia fa contatti Che tu sappia No Però Sonia Fa degli incontri Collettivi Se vai sul suo YouTube E vai in community Lì lei segnala Una roba che io non sapevo Nei che ci fosse Community Sullo studio Quanto mi piace Il tuo studio Anche me Allora Ah Laila Ah l'hai scritto Mille volte Sì ho visto Quello che hai scritto Che quando abbiamo Nominato Jimmy La tua chitarra Ha risuonato L'avevo letto Ma non riuscivo A cosa Allora Ho acquistato il suo libro In meno di un'ora Neanche Arrivato all'ottavo capitolo Il libro Sì o meglio Sì esatto Allora Molto interessante L'esperimento E approfondire ulteriormente Allora Quando Ma Caria 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 Arriverà anche lui E' stato E' stato In In Coso Ascolta Ehm C'è Allora C'è uno Uno Aspetta che Aspetta eh Aspetta Ah è Gabriele Non so Ok E ecco Ma si chiama tu Poi dopo Con Ok Quello che avete fatto oggi Con Jimmy Hendrix Jimmy Hendrix Ma ragazzi Non sapete scrivere Jimmy Hendrix Cazzo Lo trasmetterei qui C'è YouTube O su 8TV Su Reddani.tv Ehm Ehm No no C'era sempre la stessa cosa Allora Jimmy Esatto Jimmy si scrive così Ragazzi Marco Luzzatto Si occupa anche Di cabale ebraica No Con Marina abbiamo No Ah lei si occupa di cabale Sì Te C'è ancora qui sei Eh C'è Marina che è sempre un eschimese Allora 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 Non puoi nascondere Al congenio di Guantaman che ti prego Emiliano Ti prego No basta Cioè Voi Redd si è un grande attore No Purtroppo Purtroppo Se fossi un attore Non direi sempre la verità Come faccio Quindi Ragazzi Quindi Sì o sì la conosco Susi è una persona meravigliosa E bravissima medio Va bene Oggi tv parlavo di Demetro Status Mi è sembrato un artista molto particolare Spirituale Poi dice qualcosa in merito Era molto bravo Ecco vedi Ok Hai visto No Non ce l'ho La favola È tratta tutta una favola oggi Cioè Più favola di quelle che abbiamo vissuto Cioè ragazzi Allora Il video pubblicato sul mio Facebook Ma quando i bimbi hanno fatto gli occhi Cantato Happy Birthday to you in inglese Così lo capisci Mi sono commosso anch'io Maurizio Di Tollo Non l'ho visto Non 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 mi è arrivato quel video che dici Comunque va bene Allora Diverse persone scrivono di Salvatore Brizzi Non ti interessa o non l'hai mai sentito Non lo conosco Allora Cristina Io ricevo 250 mail al giorno Tra le 250 mail Ci sono almeno 10 mail Che mi propongono di fare interviste a qualcuno Io non riesco a Tant'è vero che Quelli a cui rispondo le mail Se notano Io rispondo verso le 2 Le 3 di notte Perché al momento in cui dico Io devo smaltire queste 3000 mail Che ciò mi metto lì Con pazienza Tolgo lo spam Rispondo Eccetera Quindi Allora Serata veramente super Domani chi ci sarà We have a dream Di sicuro ci saranno i rockets Fabrice Pasqua Eh Ci sarà Nicola Gelo Ci sarà Nicola Gelo Sì Girenzi E Petrina Petrina Ma quando Cazzo hai già fatto la puntata te T'ho lasciato qui Mentre andavo a mangiare Adesso Cioè Cioè scusa Ma mentre tu Mentre tu riprendevi Bloccavi la gente sul computer E facevi anche la puntata Sì Abbiamo un altro alieno Nella stanza Ok Quindi Interessante Ma sono pronti per gennaio Ah siete pronti per gennaio Filo Siediti qui No 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 Ma vieni qui Filo No E fatti vedere Siete pronti per gennaio A gennaio Ah a gennaio Parte Il nuovo Roxy Bar Non si scherza Ecco Oh ragazzi Interessante Ciao Red Volevo chiederti Perché una volta Portavi l'intescuro Degli locali Oggi no Il ponte dei miracoli Il ponte dei miracoli Perché 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 Mi hanno dimostrato Che mi stavo nascondendo Tutte le persone Certe persone Si nascondono Io mi scadevo Con gli occhiali scuri Filo Si nasconde un po' Con la barba Cioè ognuno di noi Trovo un modo Di nasconderci Poi dopo È stato duro Mostrare gli occhi Però Però ce l'ho fatta Che pazienza Che era Eh vabbè Allora Ho capito Maurizio Ma tu mi dici Che i tuoi figli Hanno detto Buon compleanno Jimmy Eccetera Mi piaceva Volevo condividerla con te E dove Come cazzo faccio A condividerla Non ce l'ho Ragazzi O me la mandi Da qualche parte Ma Sono pronti Perché non Sono pronti Sono pronti Cosa Non siete pronti Per suonare dal vivo Sì sì Allora Ciao Re Ciao Filo È due anni che sono pronti È due anni che stanno aspettando Ma Sonsonare Sono pronti Sì Sonsonare Sonsonare Allora Ieri sera Ieri sera ho pagato L'abbonamento Per tre mesi Ma non riesco a collegarmi E gli osa Barbiero E Robertina Risolve tutto Una volta c'era Gigante Pensaci tu Roberta Pensaci tu Mi piacerebbe Poter risolvere tutto Sì sì No Stiamo facendo È che abbiamo avuto Un piccolo boom E quindi Adesso Sono un po' Fra un po' Arriva anche a me La famosa bottiglia blu Di Biovital Da quando l'ho assaggiata Carattua Non ho potuto Non comprarlo Vedi Antonello Brunetti Giustamente Antonello E gli arriva a Londra Tramite Tramite Cosa Tramite No Le DJ Non c'entra niente Tramite Come si chiama Christian De Lord Che va suonare a Londra Con Antonello Brunetti Allora Figata Il nuovo Roxy Bar Filo è già carico Noi siamo carichi Stiamo già preparando E poi forse Ci sono anche Delle sorprese Quindi Allora Filo fate vedere Non si vuole far vedere Sai Eh Ilaria Robi La robina La robina Ragazzi Ciao Filo Ti saluta Ilaria Vedi Ilaria è pronta A venire a suonare Se vuoi Quella Quella è sempre pronta Ilaria Ilaria Poi adesso che c'è la macchina nuova Mi sono fatto la macchina apposta E quindi Come si fa Ad andare oltre Allego Per essere un vero artista So C'è che domani Come fai ad andare oltre Allego Per essere un vero artista Un vero artista È un vero artista Ascolta Osho Ascolta Cosa dice Osho Cosa dice Osho Cosa Cosa Cos'è Osho Allora Red Da barbonoide Io adoro la mia barba Ma dici che c'è una sorta di maschera Sì Perché loro mi vengono a pensare Che nel taglio dei capelli L'auto E le vesti Delle maschere No Quando tu ti copri Io con gli occhiali scuri Sono di quelli poi addirittura Che hanno gli occhiali neri neri Tutto un barbone Non si vede niente È nasconderci Allora Grazie mitico Red Stai facendo per la spiritua Quello che il maestro Manzi Fece per l'alfabetismo L'analfabetismo Oh è vero Come si chiama il programma Non è mai troppo tardi No Non è mai troppo tardi Maestro Manzi Che insegnava a scrivere Ah Non sono figli Sono bimbi della scuola No no Maurizio Mi è peccato Reddi Fabrizio Pascal Quagliotti Ho tutti e due i suoi dischi È vero Ma lui è molto bravo Le tue dirette Mi hanno dato Superare momenti difficili Alex Sono contento Lo scopo Di queste tre ore Che passiamo insieme È quello di darvi la forza Ho visto La favola su Hendrix La chitarra è stata battuta A 118.000 sterline No Magari L'inglese No No eh Non era 118.000 118.000 Erano 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 180 Chi c'è? Marco Stai andando Marco non vuole andare via Stai cercando il tuo cellulare Vuoi che te lo faccia squillare? Proviamo Proviamo a fartelo squillare Aspetta un attimo Ha perso il cellulare Marco Lozzato Allora fammi dare un'occhiata L'Uzzato Allora Marco No 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 Eccolo qua Marco L'hai trovato? No no Allora Squillando No Squilla adesso Però non si sente Macchina Oh bella Non c'è Marco Niente Non l'esco dopo Non l'esco Guardando Anche perché Ma avevi tolto la suoneria? No no Mi sembra Pare che fosse rimasto Vodafone Messaggio gratuito Come cazzo Che si è rimasto Prova a richiamare un attimo Che partiamo di qua L'hai lasciato al ristorante? No Ma la ci avrebbero chiamato Se fosse rimasto E come fanno a chiamare? Proviamo Abbiamo perso il cellulare di Marco Lozzato Cioè lui va in contatto con Con anime qui Un messaggio gratuito In contatto ma perde il cellulare Ma perde il cellulare Io sto continuando a chiamarti E Marco Ha comprato la macchina apposta Vergoglio Allora Ciao Red Mi chiamo Nicola Paladino Ho 43 anni di Napoli Ci siamo conosciuti circa 20 anni fa Quando conducevi i help Sottimici due Ma ti seguo sempre Eh? Dove era? Era apposato lì sopra A posto Ma suonava mentre chiamavo? Era in vibrazione Hai messo la vibrazione Era in nasiera Ti sei spaventato eh? Sì ma ci stava Una forte emozione anche questa sera Anche questa sera Anche una forte emozione anche questa? Bravo Bravo Grazie Ok ciao ciao Marco Allora Ti seguo da sempre Sono un tuo enorme stimiatore Visto che ti sto occupando A tempo di argomenti Io vorrei farti conoscere Un illuminato Una grandissima medium Sensitiva Che parla di cose Interessantissime E credo che sia davvero Altre dimensioni A parlare di alcune cose Trent'anni fa Sono le stesse che tu dici oggi Se hai qualche ora di tempo Sì però Se facci il film di fotogramma Non devi ridere Cazzo Sì vabbè Ok 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 Sei qualche ora di tempo Però va bene Allora sei qualche ora Sai qualche ora di tempo Magari ti trovi a Napoli Magari una chiacchierata con lei Sarebbe interessantissima Sarei felicissima di andare a trovare con te Grazie mille Allora Nicola Palladino Guarda Facciamo prima Se tu mi fai scrivere una mail Ok Se ho qualche minuto di tempo la leggo Allora Domenica 3 dicembre Suoniamo insieme a Londra Con The Lord Per chi volesse venire Antonello Puretti Tu in marketing sei fantastico Capito Allora domenica 3 dicembre a Londra La gente cerca Dove sono? Partendo da Piccadilly Circus Andando su Per Reggio Strito Oppure per Shaft Puri Avenue Poi salendo Su Tottenham No Su Coso Poi Tot Fanno tutto Tottenham Poi dopo Fanno tutto Axor Circus E poi dopo vanno Vanno fino a Marbola Arce Poi dopo da lì vanno Prendono la metropolitana Vanno a Notting Hill E a Notting Hill scendono Scendono giù Poi vanno Fanno tutto a Portobello Road Fino ad Accra Mall Poi vanno in Ledbrook Grove E doppertutto Dove sono? Antonello Brunetti The Lord Ragazzi Eh? Candentown Candentown Ah no Candentown Vabbè No ma quella è la Nord Line Stava un po' più Allora Ragazzi Allora Marco Lusato Non dimenticate La tenda da campeggio Non è Marco Non è male Allora Fausto Mesolella Ha avuto contatti extraterrestri No Quando io andai E per averlo contato Tanti anni fa Un po' di anni fa Chiesi di Fausto Mesolella Ma mi dice che non era ancora pronto Perché? Perché Doveva ancora metabolizzare Il fatto che non era più Su questo pianeta Un po' quello che ha detto anche Il padre Vissarione Quindi Allora Reddy Io sono una persona Che crede E apprezzo tutto quello Che fai con persone Meravigliose Anche perché ho vissuto Contatti extraterrani Di persone So cosa significa Parlare Ok Allora Reddone Mucchi di Bene Bellissima Nella serata Mucchi di Tolle Energia positiva La mia vita è migliorata Anche grazie al tuo aiuto Ottimo Maurizio Se l'hai venuta anche a piedi da te E Ilaria Ilaria non devi dire queste cose Perché poi facciamo una scommessa Tu mi parti veramente Dalla Borgata Finocchi Vieni a piedi qui Perché Ti ho sfidato a non mangiare carne Per tre mesi E mi ero anche dimenticato E tu l'hai fatto davvero Quindi Ilaria Non sfidarmi Andiamo avanti Allora Erick Per fare il segno del crosta Siamo stato spiazzato Certo Perché è vero C'è la scena di cote Così vedi Queste tre dita Nome del padre Del figlio Dello spirito A destra Santo Io notai Lo faccio in maniera diversa Nome del padre Del figlio Dello spirito santo E della madre La madre non la caga nessuno? No La Maria non la caghiamo Nel segno della croce Vabbè Diciamo che Allora Allora Chiamate Bobby Solo Farci fare un brano adesso No Bobby Solo La batteficazione insieme a Gasper Non ho preparato Non ho preparato nessuna domanda Cioè non mi sono preparato Allora Io Ho detto Ma io non voglio fargli una domanda Voglio che lui Dica delle cose E lui Ha iniziato E lui E lui E lui ha fatto una dichiarazione Quindi Il nuovo Roxy Bar Ci farà la stessa Lo chiesi Da Barone Rosso Per ora Lì Per ora Però Non è quello Abbiamo una consapevolezza diversa Da quando abbiamo smesso di fare Il premiato Ciccola di Barone Rosso Quando faremo il nuovo Roxy Bar Sono cambiate tantissime cose Quindi Grazie mille Red Nicola Paladino PS dove ci mando la mail Eh Nicola Se non la trovi C'è chi la trova Non posso cercare la mia mail in pubblico Mi dispiace Se hai il weekend libero Vieni a fare il DJ Il mio compleanno Baffalo solo di qua Soltanto per questo Mi riteresti Che Io vengo a fare il DJ Il DJ è il tuo compleanno Guarda Sono Però io Musica strana Allora Qualche aneddoto Su Ciampi Erber Pagani Uh Erber Pagani Ragazzi Mi piacciono amanti Erber Pagani Sono andato a vedere Un suo spettacolo Teatro E c'ho anche È una caccia al tesoro Qualcuno ci troverà Ah ma il tornello Allora sei proprio scemo Cioè Non dai Non dai l'indirizzo Ma va bene Ok Allora Se siete a Londra Andate a cercarli Ok Scherzo Vai che ti dica Allora Allora Padre Vistarione Ortodosso Il segno della croce Di cui parla È della chiesa ortodossa Anche le tre ditte unite Rappresentano la trinità Il nostro segno della croce È un simbolo cattolico E allora Se il segno della croce È cattolico Come dici tu Non rappresenta la trinità Già Sbagliamo no? Trinità Non si fa la trinità Scusa eh Padre Figlio È spirito santo Non è la trinità E se tu non la rappresenti Già sbagli no? Già lì è sbagliato Comunque diciamo Che tra Tra quello di Vistarione E quello di Bergoglio Scelgo Vistarione Andiamo avanti È venuto un bicchiere di Bonarda Buonissimo Non so cos'è la Bonarda Dato spazio alle mie foto Qualche anno fa Diego Di Guardo Mi ha portato per tu Diego Oh Chi è? Diego 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 Chi è pure Diego? Beh è un fotografo bravissimo Sì un fotografo Ma viello dire cazzo No che fece le foto È di una loro Ah è Dio della Love Fece le foto E io che foto ho dato Non lo so Diego che hai fatto le foto Dio della Love Lo smetterò mai? Allora Aspetta Non smetterò mai Di ringraziare Per dato spazio e visibilità Le mie foto qualche anno fa Mi ha portato fortuna Dai un abbraccio a filo Con il quale condiviso I miei primissimi scatti Al nostro Dio in comune Dio della Love Associa ragazzi Bravissima Vedi Vedi Allora Resta parlando solo tu Lascia parla a Marina Per favore Marina Allora Cos'è? Passo dietro Cos'è? Marina Cos'è? Cos'è? Non è bello? Aspetta no 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 Sociale Ma Ma quanto è fuori la gente Porca vacca Ma social ragazzi È arrivato adesso Allora Aspetta 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 Allora 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 Ragazzi C'è un sacco di gente Fuori di testa Eh Sei ancora in diretta? Eh certo Questa è diretta Eh certo Eh perché dici fuori di testa? No ma perché uno che mi dice Che stai parlando solo tu Dai spazio a Marina Sei andata via da 20 minuti Quindi Eh Un attento È arrivato in ritardo Ciao bimbini Buon viaggio Buon rientro Ciao 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 Allora Ho tolto le candele dalla macchina In autostrada per tornare a casa Volevo chiedere a Torini Se mi metto una parola per un raggio traente Che gherbala Allora La Bonarda è un vino dalle mie parti Un rosso dell'oltre po' pavese Allora Hai mai pensato Ti hanno mai offerto il colore con Bio Blu Ma io riesco a malapena A fare quello che devo fare qui E quindi non Non Adesso tutti vogliono fare addirittura Canali sulla spiritualità Hai capito? Quindi Facciamo un canale sulla spiritualità Sì certo Come no Allora Ciao Red Per fare contenta mia madre e mia compagna Sto guardando il grande fratello con loro Sul divano Ma io di nascosto ascolto E guardo te con lo smartphone Cosa devo fare? Gianni È bellissimo Gianni È bellissimo Guarda Io praticamente sono il tuo amante E loro È tua moglie Quindi E quindi Io sono il tuo amante Quindi Tu stai parlando di nascosto con l'amante Mentre la moglie guarda Il grande fratello Fantastico Dove di sera abbiamo interessato La bellissima interessante persone Il carabiniero Alessandro Di Roglio Che ha tanto materiale ufologico alternativo Bene Vabbè Complimenti a tutti Un abbraccio di luce Molto interessante davvero Come diceva Come diceva Bukowski La gente è il più grande spettacolo del mondo E non si paga il biglietto Allora dovete sapere che una sera ero a Napoli Era estate E con Morena e con la cagnolina Olli Siamo andati sul lungomare di fronte all'hotel Vesuvio E Santa Lucia in mezzo ai due Ci siamo seduti sul muretto con le spalle al mare E ci siamo goduti un film meraviglioso Vedere passare le persone Dunque era estate Era un caldo da matti Vedevi tutte queste tantissime belle cicciottelle Con degli stivaletti Perché andavamo in moda gli stivaletti d'estate Gli stivaletti no Con delle mise che erano incredibili Erano dei vestitini di pizzo Cioè era un defilé Era una cosa fantastica Cioè siamo stati lì credo una ora, due ore Ma era bellissimo Vedere tutte che passavano Sentire i discorsi Sentire le cose Lì proprio nella penombra Guardavamo e guardavamo e era una cosa fantastica Come ad esempio C'è stato un periodo Scusate ma Mi soffio il naso C'era un periodo in cui Beppe Carretti aveva aperto un locale cubano a Reggio Emilia E mi aveva coinvolto da mia mano eccetera E allora io mi divertivo da matti ad andare a vedere A vedere no? Mi faccio fare un vergin colada Il vergin colada è un pigliacolada sin ferrum Mi mettevo con il mio vergin colada e col ghiaccio In penombra Ok? E vedevo la gente che entrava Allora voi dovete vedere Dovete capire che Ancora il più divertente erano Siccome era il locale Indy di Reggio Emilia Vedevi questi figli che entravano no? Questi chiaramente figli di papà Fuori avranno avuto una macchina di prestigio Ed entravano con delle bellissime ragazze no? Entravano così no? E loro camminavano come dire Ma hai visto la figa che c'ho? Scusa Camminavano così no? E lei entrava camminando così Ma hai visto che figa che sono? Ma vedi? E gli schiettano E lì nel locale c'erano 4-5 cubane Non erano bellissime ma erano cubane A un certo punto c'era tutta musica cubana E c'erano questi cubane che cominciavano a muoversi Dimmenavano Con una sensualità Anche le fighe bellissime dicevano E vedevi che il figo guardava e diceva Cazzo come muove il culo quella lì Ma la mia è una figa di legno rispetto a quella lì Io leggevo come nei fumetti Io mammo i fumetti Io vedevo il ballon del fumetto Che si faceva sopra no? A un certo punto vedevi che Io accendevo il cronometro Tac Vedevi che la ragazza bellissima Andava e provava di ballare E poi chiaramente sembrava una scopa Che ballava con della gente proprio sensuale Che ballava I cubani ballano in maniera Allora io entro 5 minuti La ragazza andava dalla ragazza e diceva Andiamo via questo posto non mi piace E costituiva la ragazza ad andare via Perché? Perché non poteva competere Con la sensualità delle cubane Quindi questo è il racconto che mi è venuto adesso Non so perché In base a quello che ho letto Allora Sto forcando il racconto Perché questo secondo me è lunga la crozza Questo racconto va da crozza? No assolutamente Ah no Allora Allora Ecco 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 l'altra L'altra L'antipnosi collettiva Red Riusciremo A sopravvivere Ai cambiamenti climatici Oh l'ansia Vatti a vedere Un bellissimo video Che ha fatto Che hanno fatto Sui cambiamenti climatici Eh Il cambiamenti climatici Che è una cagata allucinante A te Perché Serve a giustificare Interventi che faranno Tipo Andare 30 l'ora in autos In città Cioè Ho stato passato Ad un paese Che aveva tre case Strada dritta 30 l'ora Mi sono messo andare 30 l'ora Rischio di essere tamponato Vabbè Comunque Questa la sporchiamo Questa la sporchiamo Sì sporchiamola Vabbè Allora Andiamo avanti Ma è Cuba ragazzi Cuba Stasera parlavamo di Cuba Comunque ne parlavamo Non mi ricordo più Però Parlavamo di Cuba Cuba ragazzi A con Gennaro Del Duca di Ventivoglio A cena Allora Red Pure le cubane Vedi stasera Non è che le vedi Stasera Pedole cubane È un racconto Che mi è venuto in mente Non lo so perché Mi è venuto in mente Allora La Virgin Colada La porrò Che viaggio Sì è la pigna colada Oppure io a Cuba ordinavo Il Mojito Il Virgin Mojito Sin Ron Io dicevo Mojito Sin Ron Che si chiama Virgin Mojito Si chiama Virgin Mojito Allora ordinavo il Virgin Mojito Vabbè Quindi Crozza di sicuro Le cubane Famoso per il bitondo Eh sì Allora Andiamo avanti Perché ci rendi protagonisti Nelle Grazie perché ci rendi protagonisti Antonella Ma a me piace 30 l'ora al centro di Milano Sono utili Certo Auto elettriche esplodono Cambiamenti climatici Non se ne può più A Damsel 30 l'ora da dicembre Ecco vedi Eh ragazzi Che storia fantastica Hai sentito che in Cina Esplose una stanza influenza Wow una stanza influenza Una strana influenza Una strana influenza Mira il dito Ma un'allegata Perché Il moscato ti fa bene Bevilo in tutte le dirette Eh beh Però non sarebbe male Mi piace il moscato È una cantina Che vuole sponsorizzare Cioè no C'era Carlin de Paolo Però adesso Adesso In settimana Cosa No no Pensavo facessi degli spoiler Che cosa Non lo so Beh È bellissimo Perché mi arrivano i messaggi Della Roberta Dice Bello Sapere i programmi futuri Da un video Perché Perché io faccio un video E poi mentre lo dico Mi rendo conto Che non l'ho ancora condiviso Ah faccio quello che faremo Durante la settimana Ah faccio quello che faremo Durante la settimana Quello che ho fatto in today Non ci sono Esatto Ma di fatti però Dovete sapere una roba Che Fermati No Allora Mercoledì Fermati No Mercoledì Mercoledì avevo una diretta Con BioVital Ok Lei mi scrive Io mercoledì non ci sono La bastarda Ha fatto saltare la diretta Non possono Sì Perché tu Tu ti connetti Sempre tu dici Ci pensa l'universo L'universo ci ha pensato Non lo so Solo io Anche Linda però Anche Linda Anche Linda Anche Linda Siete in due Sì perché arriva anche Linda È vero È vero È vero È vero È vero Cosa Pensa a una serie Mica sull'universo È vero Esatto Allora 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 Pedro scrive Non sapevo che Crozza aveva un suo canale su Youtube Io non sapevo che tu non sai i verbi Coniugare i verbi Forse impariamo Cosa ne prende il rapporto Tra Alice Zeppelin In particolare Jimmy Page e il satanismo Aled Zeppelin Non Aled Zeppelin Ma no Sono tutte cose che si dicono Ma sono tutte cavolate Tutto nasce da quei simboli Zozo Quelli che si dice Ma Sono Filo Inquadra le ragazze Please Robina Robina Siopera Stasera Red È posseduto a Crozza Va bene Allora Anche la strada per andare Alla stazione dove ci sono sempre lumache Red Mi fai vedere Anche i ragazzi che ti assisto Dentro del quinto Ma i ragazzi No Non si faccia vedere Ragazzi Pagando No 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 Metti giù Pagando 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 Su Red Droni Vedete Se guardate Da Red Droni Punto TV C'è anche il backstage Ma io non ho capito Allora Mercoledì No Perché Aspetta Dove è qui No No Perché Allora Ad esempio Ad esempio un altro Che andrò io Venerdì Vado giù Quando vado giù Io Quando vado giù Io Non sapevo neanche che guardassi giù Ma giù quanto? Eh vado giù vado giù vado giù vado giù a fare a fare un reportage Aspetta Sì molto giù Allora fammi vedere Fammi vedere quando vado giù No No Stimana dopo Vado giù Il giorno Sei Sì ma c'è un calendarietto che te lo raccomando Ah deve fare tipo Faccio il ping pong Io ho la pallina e la flipper in questi giorni Allora Vado a vedere delle belle cose però Vado a vedere delle belle cose Sì anche Anche da Meluzzi è bella quella cosa Allora Notizie di Pier Giorgio Caria dal Ha detto Nami Dovedì prossimo Ah vai giù Nami Invece Dovedì Ci sono Vedi Spoiler a Nami Vedi Nami sta spoilerando Sta scrivendo Nami Ah giovedì prossimo Sì Ma c'è un maiuscolo Sì sì Il 6 Il 6 Il 6 Il 6 Che bei tempi è quello del Telegatto Quanti ne hai vinti? 7 Grazie Bia Vital Ok Allora Ma è bella Bella le domande Cosa? Fantastico Le domande poi contesto Quali sono le domande poi contesto? Hai vinti Telegatti Bello Sì perché vedono dei Telegatti dietro Ah no Certo Ah ok Io spiegavo come sponsor Io spiegavo come sponsor biovital Secondo me è giusto Esatto Cosa ne pensi di Oh Il 5 Ciao Eh Le mie domande preferite Sai quali sono? Ma lei Cosa ne pensi di Ah cosa ne pensi di Eh fantastico Cosa ne pensi di Cosa ne pensi di I primi let's pen che facevi Sì i primi let's pen Erano tutti così Sì I primi let's pen Hai visto Hai ragione Pensa che evoluzione Che abbiamo fatto Cioè adesso 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 dicono Ma gli alieni Cosa fanno? E vedi Adesso si fanno la morita Adesso Cosa ne pensi Adesso vi dico cosa ne penso Adesso vi dico cosa ne penso Guarda Se vi vedete Se vi vedete Se vi vedete Quello che Che Allora 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 O parliamoci molto chiaro Così per una volta Tutti chiudiamo un argomento Ok Io bevo biovital Ok E questo E bevo biovital Ma stai rispondendo Ai scritto brasso? Sto rispondendo a qualcuno Ma però senza di Che cosa sicuramente Ce la do Comunque no Bevo biovital Perché? Perché l'universo Perché l'universo Ti Senti Non mi rompo i coglioni Sei più tu che parli di universo Una volta che ne parlo io Cazzo ti metti a ridere Allora L'universo Predispone Per Ognuno di noi Un cammino Se ti comporti male Ti arrivano delle Sacolate Se ti comporti bene Allora Io Credo di essermi comportato bene Con le aziende Che Mi hanno affidato La loro immagine Mi sono sempre comportato In maniera incredibile Potrei fare un elenco Lunghissimo Da quando ci facevo Biba Palula Quindi I pop L'orologino One on one La bibita In seguito Poi dove c'è stato Team Fiat No Volkswagen Ad esempio Quando feci i miti Della musica Volkswagen Arriva uno Di se ti vuole A cena Alla poi Perché l'anno prossimo Qui al motorshow Ci sarà Fiat Dico no Ho un accordo Con Volkswagen Dice ma l'hai già firmato No Però c'è un accordo Stretto di mano Allora poi Romper No Quindi La Fiat poi è arrivata dopo Quindi Volkswagen Che ne so Eh Seat Coroxi Bar Seat Coroxi Bar Poi che c'è stato Abbiamo avuto L'Audi Abbiamo avuto Abbiamo avuto Apple Apple Coca Cola Poi chi abbiamo avuto Pagine gialle Pagine gialle Barilla Poi chi abbiamo Chi Chi ti ricordi Tu Anche la Nike La Nike Adidas Adidas Abbiamo avuto Adidas Fiat Volkswagen Non è male Poi chi abbiamo avuto Cioè proprio Venivano tutti Poi chi abbiamo avuto Golia 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 Poi abbiamo avuto Alcinero Melizia Auretana Eccetera Bene In passato Che c'è stato Molino bianco Molino bianco Tutte le pastine Sì La Robic era una bambina Allora Andava sulle pastine Io non faccio spoiler Io non faccio spoiler Ma quindi è confermato Quello Mamma mia Mamma mia Quello Perché la Roberta Dice Ma ce ne danno Tutti Ancramili Tutti Tutti vogliono Sì I dolci Arrivano Credo che arrivino Allora Quindi Io mi sono sempre comportato Mi sono sempre comportato Molto bene Addirittura Addirittura Alfredo Altavilla Che era La Fiat Praticamente Era Mi ha detto E l'ha anche scritto Che Fiat Music È stato Una delle operazioni Più importanti Che abbia mai fatto La Fiat E a costo minimo Per la Fiat Bene Golia Quando faceva Roxy Bar Nella seconda edizione De Roxy Bar C'erano le caramine Herbs Ed erano A me piacevano Allora Mi vuoi mandare Le caramelle Herbs E Quella Che si guarda Ma ha detto Vaffanculo Dico perché Dice Noi abbiamo fatto Le herbs Solo per te In che senso Noi abbiamo prodotto Le herbs Perché visto che Eravamo sponsor Roxy Bar Tu sei vegetariano Verdure Eccetera Abbiamo fatto Questo esperimento Abbiamo prodotto Le caramelle Herbs Le abbiamo date A pubblicare Solo a te E sono Quelle che vanno Di più Sono tutte esaurite E non ho neanche Da mandarti Questo per dirti Come io ho lavorato Bene con gli sponsor Purtroppo Se Un'azienda Ti dice Che non può più Associare la sua Immagine a te Perché tu Perché tu rivendichi La libertà La possibilità Di curarti Come dice La Costituzione Tu dici Che peccato Però Si chiude la porta E si apre un portone Perché ti sei comportato bene Eri un'azienda Della stessa gamma Che Con la quale Ti trovi molto meglio E così Chiudiamo Un discorso Ok Bene Si faranno delle Spalanzani Te spalanzani Ci faranno delle puntate De nuovo Roxybar Dal pit stop Sarà previsto Pubblico Perché dici No Allora Se non si faranno È colpa di filo Vero Allora Allora Andiamo avanti Grazie Max 23 euro 94 euro Di super chat Sosteniamo Ma mi piace Perché hai fatto Il prezzo politico 23 23 e 99 Se facevi 24 Sembrava di più Non mi devi vendere Delle cose Ti ringrazio Max Ti voglio bene Secondo me È standard Di youtube È standard di youtube Non lo so C'è avrà dei pezzi così 23 Bellissimo Allora 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 Mi sembri onesto Allora Allora Veniva Una band Ma è vero Che costa 5.000 euro Il biovitale 5.000 euro Ne vale almeno 25 Secondo te 5.000 è un buon prezzo No Non costa 5.000 euro Costa molto meno Lo puoi prendere anche 40 euro al mese Però Se vuoi credere Che costi 5.000 euro Quanto costa Comprare acqua minerale Andare La benzina per andare Caricarla Gli smaltieri Ah c'è troppa plastica Però tu cosa fai Vabbè dai Allora La robbie è universalmente Unica La robbie è universalmente Unica Ma siamo tutti Universalmente Unici Ma sai chi l'ha scritto? Mia madre Tua madre Tua madre C'hai preso Grazie Come hai fatto a sapere Perché tu non lo vedi Questo post Perché su Facebook Tu stai guardando YouTube Come cazzo hai fatto Come hai fatto Come hai fatto a capire Che Come si sbaglia No devi dire Eh Poi C'hai anche vestito Versace È vero Ma non ne vado Orgoglioso Beh C'ha vestito Trussardi C'ha vestito Diesel Ci ha vestito Ci sono state anche le patatine San Carlo Ci sono state anche le patatine San Carlo Travolo E poi dopo Ci ha vestito Diesel Ci ha vestito One One Ci ha vestito CP Se vogliamo andare avanti ragazzi I tegolini Eh La murrina I tegolini No i ciondolini Ah i ciondolini della murrina Esatto Di Come si mi ricorda E poi c'era stato anche Croniangoletti Fiorucci Fiorucci abbiamo avuto Ragazzi abbiamo avuto di robe Ma l'Apple Noi pubblicizzavamo l'Apple Quando l'Apple non fece pubblicità Da nessuna parte Avevamo la margherita Con i cinque iMac Tutti di un colore diverso Ah ragazzi La morositas No Ti uso le canzoni Sì Allora Devo portare fuori il cane Non ti azzardare a mandare la sigla Che lo sai Devo commentare con i disegnini Quando torno ti avviso Va bene ok Mott Cristo Aspetto te Secondo te Sono il cinquantacinca Tu porti fuori il cane Devo aspettare che porti fuori Ragazzi ma ce n'è di gente matta Però ragazzi Però mi preoccupo Ma Scusa Ma per Per cose di conseguenza Ma se la gente che mi segue È matta Per osmosi È Noi cosa siamo Fate una domanda E date una risposta Allora Red ha incominciato seguiti La prima intervista Alla Corrias Che ha chiamato stasera Prima Il sistema Minaccia Parla di continuo Di monete elettroniche Secondo te Il contante scomperà Certo Vogliono controllare tutte Ah La Fabri Editori Abbiamo avuto La Fabri Editori Vedi mi sta ricordando meglio Spock La Optima Optima Ah beh Il quaderno Il quaderno Era una pigna No Abbiamo fatto un'operazione Pigna Pilot E 3M Sì I pennelli pilot Mamma mia Quanta roba ragazzi Se è troppo figo Quando ti gratti la testa La forfora in realtà Sono nienti Microspoly No io non ho la forfora Io mi gratto la testa Per un fatto Nervoso No non nervoso Perché 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 voi non sapete Che cazzo C'ho in testa io Allora Però non ho la forfora Allora Sono in UK Ti ascolto tutti i giorni Angela Raffaele Gagliari Ma cosa fai Io in UK A Fabri Editori Esatto Io pagherei per vedere Red così Tutte le sere Ah La pasta è fresca Puff È vero Questa la ricordi Anche tu Me la ricorda La pasta è fresca Puff Come sport da Roxbar È vero Ricordo che Gli unici biscotti Che sporturizzava Erano i grandi cereali Del mulino bianco È vero C'erano anche le pastine Eh sì Sì C'erano anche le pastine La pasta è fresca Non si non la conosce Allora Buonasera Eccetera Io Le devi fare puntate Il pit stop Te l'ha consigliato Anche i ferrarini Adesso Qui c'hanno tutto Ragazzi Allora Ascoltavi in diretta Durante la colazione A quale Lampure in Malese Non ha prezzo Sarai stronzo Colazione Wuala Lampure In Malese Noi qui Con un po' di nebbia Freddo Ascolta E' maccomaschi Vabbè Che gher Nel senso che vuol dire Fai il bravo Ok Red Apri apposta il cuore In blocchi spirituali Sei brillante del solito A tal dec C'è ragazzi di Moscato A me mi fa bene Poi c'è quello L'ho lasciato da Sogna Quando tornerai Con i vinili Dobbiamo fare Una serata a vinili Allora Fate un appello Un appello Che fai Alla radio Alla radio Rifacciamo Rifacciamo Redroni Live In vinile Dai chiama Allora Red Io sono in attesa Del prossimo In carico evento Daiolo Oh c'è Giuseppe Che freme Chi è Giuseppe Il cameraman Di quello Che ci ha risolto L'internet Giuseppe Daiolo Giuseppe E' in attesa E' freme Del prossimo In carico evento Lo dobbiamo coinvolgere Giuseppe Prego pare Giuseppe Allora Ma negli anni 80 Come mai Tu e Raff Rievo le elevate Spesso vestiti uguali Cosa ne pensi So c'è capitolo 5 6 Sai perché 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 Raff Era amico Di Sandro P Sandro Pestelli Che aveva il negozio In via del color rosso A Firenze E lui Mi diceva E Aspetta Non è finita E La cosa che cosa Io non ci capisco Un cazzo di vestiti Allora Morena Mia moglie dice Ha visto Raff Come sempre ha vestito bene E io dicevo Raff Ma dove cazzo La Morena mi dice Che cazzo C'hai vestito bene Ma tu devi andare Da Pestelli Allora sono diventato Amico di Pestelli Tra l'altro Pestelli Quello che ha vestito Anche i Crisma Quando abbiamo fatto Ed è anche nelle foto Con i Crisma Quando abbiamo fatto Il video Su Alla casetta Dove c'era Quella Quella Il ragazzo Che era bellissima Dai Di Polonia Eva Robbins C'era Eva Robbins Allora Allora cosa succede Che Allora io andavo Da Sandro Pestelli E poi diceva Sandro Vestimi Quindi lui mi dava Le giacche Che poi Si metteva In pratica Anche Raf Quando andavo da Raf E c'è E c'è Ho appena pubblicato Su Redroni TV Il Voto alla Voce 1989 Ma è solo caricato Ma è solo caricato Anche l'intervista Che di cui parlavi prima È solo caricato È solo caricato Ah l'abbiamo solita Vabbè Allora Pubblicherò presto Voto alla Voce 1989 Se andate a vedere C'è proprio Io ho una giacca di Pestelli E vado ai fianco a Raf E io dico Eh Bella Perché poi Io sbagliavo sempre Quindi Raf Diceva Fa cagare Non ti sta bene Quindi io non ne zeccavo una Ecco perché io e Raf Avevamo Eh ma eravamo molto amici Con Raf Cosa dici? I miei look ragazzi Erano una roba Era delle giacche Ah Eh ma lì era già Un po' più Borghese Era veramente Pagli Insomma 23 euro e 99 Non sono bastati Per farvi dei robbi No No Per farvi vedere la robbi Ce ne vuole un po' di più Di 23,99 ragazzi Eh ragazzi Eh Ci vogliono tanti soldi Ci vogliono tanti soldi Per vedere la robbi È già lì che prepara il telefono Va Va Ecco 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 Poi Poi con altri 23 euro E 99 Andiamo vicino a Robbi Robbi Ti devi immolare per la causa Cazzo Eh E quindi Il mulino bianco Biscotti Io lo so Lo so Lo so Allora andiamo avanti È ora di andare a letto Sì è ora di andare a letto Ragazzi Salto tutti i cose Andiamo alla fine I vestiti Red meglio quelli Della Carrà No ma guarda che è una Pazzesca Sono i casuali fatti Allora Red Red Ecco ti invito In vino veritas Quando Inviti Corona E va bene Anch'io il vino Qual è? Moscato Ah Bene Ragazzi Ma allora Filo scusa Cosa ha fatto? Non accontenti le bimbe? Per vedere Filo Ci vogliono Almeno Almeno 15 euro Perché è un po' meno Roby Perché Roby Roby un po' di più Ma Filo Filo 15 euro E vediamo E vediamo Filo Roby sei bellissima Te puido toccare Te puido toccare È bello Che puido toccare Chi è il genio? È Tobia il genio È Tobia Tobia Cazzo Che bello Allora ragazzi Anzi è Fodo Perché Dice Fodo È vero Bravo Tobia Dice che Non posso Mettere la sigla Perché devo aspettare Che rientri il cane Dalla Sì va bene Allora Alberto Alberto ha fatto un'agenda Fantastica Di cui ci occuperemo Presto Anche perché Sono curioso di sapere Cosa accadrà nel 2024 Visto che Nell'agenda del 2023 Guarda È caduto il ciacchi È caduto Nell'agenda del 2023 No Perché è chiusa Per motivo molto semplice Perché io Le cose a cui tengo Le tengo in tonse Però adesso Lo volevo mostrare Però non Comunque Nell'agenda del 2023 Che è qui sigillata Che rimane Che rimane agli atti Ce ne avrai un'altra Qua in giro Scusate Ma lui l'ha fatta A settembre del 2022 Quindi sono curioso Di vedere Cosa accadrà nel 2024 Con l'agenda Che ha fatto Ok Alberto Ferrarini Oggi Alberto Abbiamo fatto Un contatto E Gimignac Che è venuto E ha lanciato Un messaggio Strepitoso Non so Dov'è l'agenda Sua Era aperta Ma qui qualcuno L'ha fregata Secondo me Ha fatto pulizia Ha fatto Sì Quando C'è anche Quando passa la morena Lei fa pulizia Per lei pulizia Significa A far sparire tutto Io faccio poi così Arrivo a casa Ok Il brutto è Quando io vado via Un giorno e mezzo Che finalmente Lei ne approfitta Quindi io arrivo a casa E faccio così Mentre solo qui Faccio così Per prendere una roba Che so che lì E non trovi Questa l'abbia lasciata pulita Diciamo Possiamo prendere Questo Esatto Allora È passata mezzanotte Eh sì Si è passata mezzanotte Siamo È bellissimo Ragazzi Ma cosa ci fate ancora Con gli tanti Ma non c'è un reclibi Ma c'è Non c'è Vuoi rivederlo Che cosa Che cosa Che cosa Che cosa Che cosa Quando cercavo la roba Quando Quando cercavo la roba No Perché 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 Veramente Perché faccio così No Faccio così No Perché io Io so dove Non so dove sono le cose, cioè nel senso che io so che quelle qua, perché mi ricordo una volta venne a casa mia Gianni Morbidelli e io dici ho una tua Polaroid, andai, tu non puoi capire il casino che avevo a casa mia, andai, andai, alzai tre cose e tirai fuori la Polaroid, ma come fai? Perché io ho la memoria fotografica dove ho messo tutto, quindi quando io arrivo a casa e non mi rendo conto che Moreno l'ha messo a posto, io faccio, ha un bisogno di quella, e così, poi aspetta, non è finita, siccome questo accade solitamente verso l'una, le due, lei dorme, oppure lei è via, se è via le chiamo, dove cazzo hai messo? Allora lei mi diceva, ma è lì, è lì dove? Vabbè ragazzi, allora, 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 è rientrato Mot Cristo? Sigla! Mot Cristo dov'è? Ah, è rientrato Mot Cristo che ha portato, perché noi qui dipende, la sigla finale dipende da quando Mot Cristo ha portato fuori il cane e è rientrato, quindi ho aspettato fino ad adesso Mot Cristo, Mot Cristo mi devi sette minuti di lavoro in più, ok? Perché? Perché è arrivato, messaggio da parte del cane di Mot Cristo, Red, l'ho chiuso in cortile, puoi chiudere il programma! Sono fermo in macchina a vedere la diretta, mo' metti la sigla che voglio andare a letto! ragazzi se domani sera non ci siete la prossima volta io faccio un programma non il prossimo perché c'è l'home collettivo però il lunedì dopo faccio un programma che dovevi per trovarsi così quindi domani sera dovete battere il record delle presenze perché domani sera c'è musica e poi domani sera mi sa che ci sarà un fuori programma perché alla fine c'è il cazzeggio come stasera quindi va bene se mi risponde anche il quinto si ma faccio in modo che ci sia cazzeggio che cavolo rompini che cadono le cuffie buonanotte ragazzi che cazzeggio devi fare è arrivata l'astronave signore siamo tanti i panni sono pochi la pesca è andata male tu che vieni dalle stelle di ogni cielo sei il padrone come ci puoi aiutare la spiegazione è dentro ai numeri io di uno faccio mille e di cinque cinque mille e di mille un milione adesso saziate la vostra fame e affidatemi il vostro cuore e le nuvole si aprirono e un bagliore ci accercò poi apparvero due angeli vestiti da rumo e le nuvole si aprirono e un bagliore ci accercò poi apparvero due angeli vestiti da rumo signore non ci vedo mi mancano i tramonti e il volto dei miei figli tu che vieni dalle stelle di ogni cielo sei il padrone mi saprai guarire io conosco la materia dell'ombra faccio luce e la poso sul tuo viso e la poso sui tuoi occhi adesso osserva ogni colore e affidami il tuo cuore e le nuvole si aprirono e un bagliore ci accercò poi apparvero due angeli vestiti da rumo e le nuvole si aprirono e un bagliore ci accercò poi apparvero due angeli vestiti da rumo signore guarda il mare le onde sono montate e la barca affonderà tu che vieni dalle stelle e ogni cielo sei il padrone ci potrai salvare la realtà in realtà è un pensiero e se dico al vento fermo il sole tornerà la luce arriverà e adesso proseguite in questo mare e affidatemi il vostro cuore e le nuvole si aprirono e un bagliore ci accercò poi apparvero due angeli vestiti da rumo e le nuvole si aprirono e un bagliore ci accercò poi apparvero due angeli vestiti da rumo e infine disse adesso devo andare vi lascio le mie parole ritorno tra le stelle dove mi aspetta un'astronave dove mi aspetta un'astronave dove mi aspetta un'astronave 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 o i o Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.